Buongiorno a tutti, benvenuti al quinto e ultimo evento organizzato da Unifee nell'ambito della Biotech Week. Io sono Monica Borgatti e sono coordinatrice del corso di laurea triennale in biotecnologie e del corso di laurea magistrale in biotecnologie per l'ambiente e la salute. Qui accanto a me c'è la professoressa Veronica Pisato. Sì, do un benvenuto anch'io a tutti. Io sono la referente per il nuovo corso di laurea magistrale in biotecnologie per la medicina traslazionale che è stato da poco approvato e che si è unito al pacchetto dei corsi in biotecnologie offerti dal nostro Ateneo. Bene, prima di iniziare questo ultimo evento darei la parola al neoeletto rettore dell'Università degli Studi di Ferro Ferraro. Prego, professoressa Ramaciotti. Buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere essere qui questa mattina insieme a voi, concludere questo percorso che avete avviato di questa settimana molto intensa sui temi delle biotecnologie. Ho tenuto per tanti anni, tengo tuttora un corso ancora, presso il Dipartimento di Scelte della Vita in un corso di laurea di biotecnologie. Ho sempre chiesto ai ragazzi tutte le volte che entravo in aula perché si erano iscritti al corso, che cosa si aspettavano di fare da grandi. Devo dire che ne avessi in aula quant'erano Monica? Inizialmente 200, piuttosto che 2000, ho avuto anche questa brezza. Non rispondevano mai, forse devono ancora capirlo, devono ancora decidere quanti dei tanti sbocchi occupazionali, delle tante sfaccettature poi percorreranno. Effettivamente guardavo per curiosità anche qualche dato ieri sera con l'occasione di venire qui con voi oggi e l'Italia sul tema delle biotecnologie si posiziona in maniera assolutamente dignitosa, siamo sul podio. Siamo terzi in Europa dopo la Germania e il Regno Unito per numero di imprese pure, biotech. Anche quello del settore della salute in Italia è il settore trainante dell'intero comparto del biotech. Dati OX prevedono che nel 2030 le biotecnologie avranno un peso molto ingente nell'economia mondiale, quindi l'80% dei prodotti farmaceutici deriveranno dal settore biotech, 50% dei prodotti agricoli, 35% dei prodotti chimici industriali, incidendo complessivamente sul PIL per il 2,7% del PIL globale. Quindi devo dire un settore sicuramente pregnante e trainante sul quale dal punto di vista scientifico ma anche in termini di ricaduta industriale giochiamo un ruolo particolarmente significativo. Si stima tra l'altro che ogni occupato nel settore generi altri 5 occupati nei settori dell'indotto, quindi anche in termini di impatto, non solo di crescita del valore ma anche occupazionale, gioca un ruolo assolutamente significativo e crea chiaramente un percorso in tutta la filiera della catena del valore particolarmente rilevante, dove il rapporto di solito tra l'altro in termini occupati nell'indotto è un a 5, quindi decisamente più elevato. Peraltro appunto si prevede che anche nei prossimi anni il trend sia assolutamente in crescita a livello nazionale, quindi insomma noi giochiamo tra i tanti attori un ruolo importante e significativo non solo per il nostro contesto e il nostro territorio ma anche a livello nazionale. Ci siamo sicuramente molto impegnati anche nell'ambito della formazione, non solo in quello della ricerca, continueremo a farlo anche nei prossimi anni, abbiamo promesso di tenere i numeri comunque ad un livello di guardia controllato. non posso che essere contenta anche dell'iniziativa alla quale avete partecipato come docenti numerosi in questi giorni, nell'ambito della divulgazione scientifica o di quella che in gergo e in termini più ministeriali viene chiamata oggi public engagement, ritengo che ciò che viene fatto nei nostri laboratori, al servizio dei giovani, dei nostri studenti, nell'ambito della formazione abbia comunque una ricaduta anche molto importante in termini comunicativi e conoscitivi per quella che viene chiamata oggi la quarta elica nel nostro contesto socio-economico, quindi abbiamo il mondo della ricerca, il mondo dell'impresa, il governo che può essere a livello europeo, nazionale o regionale a seconda o locale di come lo si declina, ma abbiamo un importante coinvolgimento anche della società civile che deve giustamente prendere parte in maniera attiva non solo nello stimolare quelli che possono essere percorsi e traiettorie scientifico-tecnologiche ma anche di ricaduta economica ma anche venire a conoscenza di quello che viene fatto nell'ambito, nel contesto della ricerca con importanti ricaduti industriali, quindi molto bene questa iniziativa, molto bene che appunto il nostro territorio sia reso partecipe di ciò che l'università fa e continueremo a fare. Vi porto i saluti anche del magnifico rettore Pusciente che oggi non ha potuto essere presente l'initiativa, vi auguro una buona conclusione di questo percorso e bravi, continuiamo su questa strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'Università di Ferrara in questa settimana delle biotech, una iniziativa importantissima che apre la possibilità per tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze di entrare nel mondo delle biotecnologie, una delle grandi scelte fatte dalla nostra università ormai molti anni fa. All'interno di questa mi si permette un saluto particolare a Roberto Manfredini. Roberto Manfredini da anni è stato un pioniere di quella cronobiologia che mette in evidenza come noi stessi nel nostro vivere quotidiano, giorno dopo giorno. Sentiamo il tempo che scorre in noi e quindi apre la via ad una medicina che sia sempre più legata alla persona, alle sue condizioni di vita al momento che quella persona, io, tu, ognuno di noi nella nostra individualità è nella condizione di vivere. Questo è anche la chiave per capire la nostra contemporaneità. Dopo il lungo secolo dei consumi di massa, della produzione di massa, della vita di massa, questo è il secolo della personalizzazione, è il secolo in cui i grandi temi che determinano la nostra vita, la sostenibilità ambientale o, come diciamo noi, la rigenerazione ambientale, la digitalizzazione o meglio la capacità di utilizzare tutti gli strumenti della nostra epoca devono coniugarsi fra di loro nella conoscenza profonda della persona. Gli studi di Roberto da anni hanno aperto questa via, la via alla capacità di cogliere come ognuno di noi è in un momento specifico, in un contesto specifico, in un momento della giornata specifico e quindi è un'esplorazione sulla profondità della persona. Questo coniugato con tutti gli avanzamenti della ricerca che noi abbiamo, possiamo fare, e faremo ancora di più in questo momento in cui con i fondi del Piano Nazionale di Rilancio e Residenza potremo aprire nuovi percorsi di ricerca, consolidare i nostri ricercatori e quindi anche tutte le nostre conoscenze. Quindi un saluto, un saluto affettuoso a questa giornata dedicata a cronobiologia e biotecnologie, un nuovo mondo di cui vogliamo essere assolutamente protagonisti, un nuovo mondo di cui sicuramente l'Università di Ferrara sarà protagonista. Grazie a tutti. Bene, solo una breve introduzione anche per chi ci segue in live streaming. La Biotech Week è una manifestazione di divulgazione scientifica a livello nazionale e fa parte dell'European Biotech Week. In Italia è promossa da Asso Biotech Feder Chimica, che ringrazio tra l'altro per averci invitato a partecipare a questa edizione 2021. La manifestazione tra l'altro ha ricevuto riconoscimento da parte della Camera e del Senato e tanto per dare un po' di numeri, i quattro eventi organizzati da Unifè nei giorni scorsi sono stati seguiti, pensate, da più di 700 spettatori in diretta e inoltre abbiamo ottenuto ben più di 2.800 visualizzazioni, questi sono i dati di ieri, perché ricordo che tutti gli eventi poi sono di nuovo fruibili ai link YouTube dati nella Locandina, anche in post. L'evento quindi di oggi conclude questa settimana ricca sicuramente di contenuti sia nel campo di orientamento della professione del biotecnologo che nell'ambito delle potenziali applicazioni delle biotecnologie, le abbiamo viste in ambito sia terapeutico che diagnostico. Come diceva la professoressa Ramaciotti, infatti uno dei compiti dell'università accanto alla formazione, la didattica e la ricerca è sicuramente la divulgazione scientifica e quindi direi che con questi eventi di tutta questa settimana sicuramente questo obiettivo è stato raggiunto, soprattutto in un ambito come le biotecnologie che non è poi così noto o così divulgato in maniera semplice qual è l'obiettivo della Biotech Week. Quindi a questo punto lascerei la parola al professor Roberto Manfredini e alla dottoressa Carbone per iniziare questo evento e grazie ancora a tutti per la vostra partecipazione. Buongiorno a tutti, naturalmente immediatamente con piacere ringrazio Monica e Veronica per l'idea, per l'iniziativa, per avermi chiesto alcuni mesi fa di eventualmente essere coinvolto in questa manifestazione nella quale non centro praticamente niente, non avendo nulla a che vedere con le biotecnologie, se non il fatto che quest'anno sono entrato a far parte del corpo docente del corso di biotecnologie mediche, qui abbiamo questo trapella coordinatore, per quello che riguarda una parte di medicina interna. Una parte di medicina interna che come esperimento quest'anno ho in buona parte pensato di dedicare alla cronobiologia che fa parte comunque anche ufficialmente del parincesto del 2009 della medicina interna, però secondo me era particolarmente adatta e almeno a quello che sono state le mail, le telefonate, le richieste, gli studenti hanno parecchio gradito questa possibilità che apre il mondo, come si diceva, a degli sviluppi di ricerca, ma anche occupazionali importanti e per quello insieme a Veronica e Monica abbiamo pensato di portare questo argomento anche un pochino fuori dalle righe oggi e poi naturalmente non posso che ringraziare il nostro rettore per essere stato presente qui con noi e anche il rettore uscente Giorgio che naturalmente come ha detto Laura aveva un impegno personale e poi naturalmente il ministro Bianchi per la gentilezza che ha fatto di avere prima provato ad essere in presenza. Poi immaginate l'agenda, in questi giorni oggi è a terra, ogni giorno salta che due meridio, perché magari se uno pensa che il ministro stia sempre a Roma in realtà non è vero, almeno lui è una scheggia impazzita e quindi grazie per quello che ha fatto. Poi siccome i rincazzamenti li faccio tutti a rivizio perché alla fine non li ho scoperto a nessuno. Grazie alla grande amica e grande personalità di Volete Carbone, che tutti voi conoscete, voce di Radio 24, adesso avete l'occasione di poterla vedere di persona, qui darò un microfono fra un attimo, che ha accettato, e sempre in maniera molto carina, di venire ancora una volta a Ferrar, che era già venuta in occasione della festival, un'unifestiva qualche anno fa, quando andavamo in Gazebo in centro, c'era Cristiano, c'erano ieri, un'iniziativa che aveva un po' successo, il Gazebo era sempre pieno, c'era tantissima gente, quindi quando gli ho proposto di venire nella nostra università ha accettato di venire con piacere, ragazzi, mi hanno finito subito, e ora dico una cosa, ma l'Ateneo ha voluto ringraziarti per essere decimila, per venire da noi, e quindi questa è la parte roba del nostro Ateneo, è un pensiero di gratitudine. Grazie mille, sono onorata. E poi un grazie naturalmente allo staff di persone che mi hanno aiutato in questo, Isabella Valgianese, Rosalia Capadona, Monica Di Stati, una squadra di volontari che hanno dato la pelle, perché come sempre c'è chi organizza la loro, e c'è chi poi deve lavorare fisicamente anche in sala stamattina, quindi grazie a tutti. E poi ci saranno gli ospiti che abbiamo poi voto, mi dispiace che la sala non sia piena, ma abbiamo chiaramente riservato tanti posti a studenti, a università per gli studenti, che magari perché è sabato, perché poi c'è lo streaming, non sono potuti venire, quindi non c'è il tutto esaurito che avremmo meritato di avere. Grazie, grazie. Io sono onorata, vi è ancora una nuova notte alla febrana, e al centro del professor Mampredini. ho il piacere di essere qui per... Grazie. Ah, grazie. Questo è per lo streaming. Questo è perfetto. E questo è per l'aula. No, servono tutti e due. Ah, tutti e due, va bene. E so che imparerò tante cose interessanti, perché con il professor Mampredini a Radio 24 abbiamo parlato in tante occasioni di cronobiologia, e devo dire che proprio grazie al professor Mampredini l'abbiamo fatta conoscere a degli ascoltatori che erano assoluti... Perché parliamo di tanti anni fa, professore, del 2005, e quindi ho apprezzato molto anche l'intervento del ministro Bianchi che ha sottolineato quanto e come la cronobiologia ci dia proprio l'idea, l'immagine della personalizzazione del tempo, dell'istante che fa la differenza. E adesso sentire dal professor Mampredini, dagli ospiti e dai relatori che si uniranno a noi quanto e come la cronobiologia e le biotecnologie possono davvero unirsi, fondersi insieme per restituirci salute, per benessere, ma anche in tanti campi diversi, beh, questo per me è un'occasione ghiottissima. Per cui ringrazio molto l'Università di Ferrara per l'invito del professor Mampredini e mi taccio, che è sempre una bella cosa. Grazie. Scusa, ho fatto un pezzo. Prof, la microfona. Sì. Questo lo può mettere in tasca. Ok. Diamo un colpetto alle luci, che è così. Ah, sai fare tu, mamma mia? Grazie, così non spara su. Grazie, Monica. Ok, allora io non riesco a stare seduto, quindi spero di disturbare il meno possibile stando in un angolo, perché seduto proprio non ce lo posso fare. Vabbè, ci arriverò col mouse. Allora, intanto... Clicco io. No. Intanto, come vi dicevo prima, non c'entro assolutamente nulla con le biotecnologie e quindi le prossime circa quattro ore che prevede il mio speech, cercherò di far capire perché non c'entra. Intanto già il fatto di non saperne niente è un motivo valido per insegnare, di solito, perché è una vecchia regola che chi non sa insegna. E comunque, nella pagina di Assobiotech, che ringrazio ufficialmente, come ha detto Monica, nella pagina iniziale per la presentazione di questo evento, c'era questa frase, non importa se la tua conoscenza di biotech è vast or near to nothing. La risposta è nothing. E allora posso sentirmi intitolato a parlare un pochino di questo argomento. Visto che dura quattro ore, posso permettermi di cominciare dal III secolo a.C. Il ritmo delle stagioni è forse, era già noto, come vedete tranquillamente, sia nella medicina ipocratica che, per esempio, nel libro dell'Ecclesiaste e quindi il fatto che già Ippocrate scrivesse chi volesse investigare la medicina in maniera adeguata dovrebbe in primo luogo considerare le stagioni dell'anno perché producono effetti ciascuni diversi, non sono affatto simili, quindi era già un primo accenno di cronobiologia. Dopodiché, sono anche un po' imbarazzato perché presente qua in sala c'è il vero cronobiologo che è il professor Bertolucci, però siccome io parlo di uomini e di malattie e lui parla di animali, lui è molto più bravo di me ma lo fanno parlare per secondo, anche io oggi lo faccio parlare per secondo ma semplicemente perché il pesce nemo e rispetto a un cristiano lo mettono in seconda categoria, solo per quello, il ritmo più famoso, il ritmo circadiano e anche più misterioso è quello che è stato abbondantemente divulgato in questi ultimissimi anni, ha una storia che comincia sul mondo vegetale, qui abbiamo anche tanti illustri rappresentanti del mondo agricolo, agroalimentare e comunque del, diciamo, del mondo vegetale, quando questo studioso greco ci fa trovare una tavoletta del 300 avanti Cristo dove c'è un'osservazione che le foglie del Tamarindus indica si schiudevano con la luce e si chiudevano con il buio, era a seguito della grande spedizione di Alessandro Magno era stato praticamente costretto ad andare perché non voleva andare a fare la guerra ma essendo un grande studioso gli fu spiegato che al seguito dell'imperatore conoscerai delle cose che al mondo nessuno ha visto e questo naturalmente si mette sulla nave e segna tutto quello che trova. La tavoletta l'abbiamo trovata ed è il 300 avanti Cristo e viene considerato Androsten di Taso il primo cronobiologo della storia. Poi si fa un salto molto avanti e si arriva solo quattro anni fa al 2017 quando i tre colleghi americani che da più di 30 anni studiavano l'orologio biologico negli aspetti genetici, molecolari, eccetera vincono il premio Nobel per la medicina e allora a questo punto esplode anche un pochino di mediaticità il Corriere della Sera dedica una pagina e mi hanno chiesto di commentare perché di solito gli ex di qualcosa li chiamano in tv a commentare cioè di solito quelli bravi giocano e quegli altri commentano anche se non hanno mai fatto i giocatori in vita loro. In realtà la storia è molto più lunga perché i cianobatteri primi organismi viventi sulla terra parliamo di 3 miliardi di anni fa quando ancora c'era praticamente dell'azotto non c'era il mondo, eccetera erano organizzati già con un ritmo circadiano e attualmente uno degli esseri forse l'essere più antico del mondo è l'agonia lux poliedra è un'ameba dei mari, degli abissi di cui saprà tutto cristiano io so solo che ha 2,8 miliardi di anni di età ed è organizzata con 3 ritmi circadiani è un essere unicellulare ha 3 ritmi circadiani per le tre funzioni principali per la vita della cellula la fotosintesi la luminescenza e la divisione cellulare quello che servono a questo animalino per farsi vedere o non farsi vedere per la fotosintesi clorofiliana e naturalmente per riprodursi e uno potrebbe dire perché dopo 3 miliardi di anni ce li abbiamo ancora sempre più complessi l'orologio biologico perché il fatto di avere dei fenomeni ritmici prevedono la ripetibilità e quindi se vogliamo anche la predicibilità di un evento quindi prevede la possibilità di adattarsi e in biologia è proprio considerato un vantaggio dal punto di vista biologico l'anticipazione questo è il meccanismo classico che veniva proposto per l'uomo ovvero sia stimolo luminoso occhio per cui c'è tutta la parte della cronobiologia dei non vedenti nucleo soprachiasmatico poco più di 20.000 neuroni nel cervello che esplicano tutta una serie di azioni che adesso conosciamo un pochino più nel dettaglio non c'è solo l'orologio biologico principale ci sono anche gli orologi biologici periferici a carico di organi e apparati e l'azione si effettua sia a livello intra che intercellulare o tessutale quindi argomento molto complesso che non vado a toccare perché sono anche particolarmente ignorante non siamo tutti uguali l'ha accennato anche il ministro siamo tutti diversi in grosso modo questi due studiosi negli anni 70 hanno identificato queste due grandi sfaccettature poi sono tre due perché insomma hanno fatto un po' di presa nel mondo anglosassone quando gli è stato dato il nome gufollodola in realtà sarebbe evening time e morning time cioè chi è più in forma la mattina e chi è più in forma la sera e poi ci sono le persone intermedie con magari qualche sfaccettatura però con il gufollodola ha spaccato come dicono i giovani adesso e quindi ovunque da tutte le parti del mondo Stati Uniti tu sei un gufo tu sei una lodola e ci sono almeno tanti geni che lavorano su questa preferenza circadiana forse sono anche di più ricordiamo che si parla di chi dice 30 chi dice anche fino al 50 per cento del genoma umano è circadiano dipendente e come vedete questo è un esperimento che sono su topolino ma l'uomo è uguale se immaginate la striscia bianca vuol dire l'illuminazione nella gabbietta e quella nera vuol dire il buio vedete che ci sono un bel po' di geni che quando c'è la luce lavorano in maniera attiva e quando spegniamo la luce diventa nero droppano vanno a letto anche loro e si alza la seconda squadra dei geni che devono lavorare la notte quindi abbiamo anche fra i nostri geni quelli specificatamente più attivi di giorno e quelli specificatamente più attivi di notte io agli studenti uso il paragone non so della squadra di football americano dove c'è una squadra per l'attacco e una squadra per la difesa sono due squadre che al pallone decide non è come il calcio come altri sport qui abbiamo geni per la notte e geni per il giorno da qualche anno sappiamo che l'orologio biologico principale sostanzialmente controlla e regola tutti gli organi periferici poi abbiamo saputo che questo controllo è effettuato anche ad opera degli orologi periferici che sono all'interno degli organi e sappiamo io vi sto coprendo qui ma è abbastanza recente vediamo se proprio do fastidio sto un po' seduto perché forse copro vedete che quando i ritmi sono sincronizzati con il tempo geofisico è uno stato fisiologico se vogliamo anche possiamo chiamarlo di salute quando invece i ritmi vengono desincronizzati cioè alterati spostati per esempio il lavoro a turni il fatto di andare a lavorare di notte anziché di giorno oppure vedete il cronotipo ci sono le persone notturne che stanno svegli fino a tardissimo e poi dormono durante il giorno oppure vedremo anche l'illuminazione in ore sbagliate producono un'alterazione dei ritmi per cui ecco che per il medico clinico di tutti i giorni si manifestano disturbi fino a malattie come l'ipertensione come le malattie cardiovascolari come la sindrome metabolica come il diabete e anche come le neoplasie quindi vedete che il campo traslazionale di desincronizzare i ritmi medico pratico di tutti i giorni e malattie è molto stretto le desincronizzazioni quelle più famose le conosciamo tutti sono le prime due il fuso orario il jet lag è stato il primo grande desincronizzatore noto prendo un aereo mi sposto di vari fusi orari ho un orologio al polso che mi dice l'ora da dove vengo però l'ora del paese dove sono arrivato è diversa l'organismo risponde a quello e ci mette qualche giorno a sincronizzarsi poi dipende se si viaggia verso est verso ovest dopo c'è un mondo dietro però è il più famoso e il secondo è il più famoso ancora perché occupa molte più persone lavora turni fino all'ottocento sostanzialmente la luce la luce naturale e il buio era il buio naturale al massimo avevi il fuoco per illuminare gli ambienti e quant'altro poi arriva la luce elettrica la luce elettrica sconvolge completamente la vita dell'uomo quindi questi ultimi due secoli perché permette di illuminare in H24 gli ambienti e di lavorare in H24 quindi essere produttivi se vogliamo ma con tutto quello che ne consegue sulla malattia del lavoratore turnista che da qualche anno fa parte del nomenclatore delle patologie professionali quindi entrati in medicina in medicina del lavoro e quant'altro e poi ci sono quelli più nuovi l'ora legale dice ma è solo un'ora anche questo è un desincronizzatore e poi ancora più nuova l'esposizione alla luce esporsi alla luce in orari sbagliati quello che gli autori anglosassoni chiamano LAN light at night perché è nocivo alla salute sostanzialmente molto rapidamente la deprivazione da sonno è un po' la base di tutti questi disturbi perché comunque deprivando il sonno si alterano gli ormoni aumenta l'ormone dell'appetito anzi quello della sazietà si mangia di notte il cortisolo che è un ormone dello stress ma che alza anche la glicemia viene elevato anche di notte che non dovrebbe per tutta una serie di meccanismi c'è un insulino resistenza si va verso l'obesità verso la sintoma metabolica e anche al diabete quindi chiaramente alla base c'è un meccanismo fisiopatologico che con qualche variazione è simile un po' in tutte mentre accorciare la giornata non piace all'organismo questo esperimento nel 2007 è fatto da un gruppo molto noto molto bravi canadese il gruppo di Tanni Martino aveva visto che se uno negli animalini del laboratorio invece di fare 12 ore di luce o 12 di buio ne facevi 10 di luce 10 di buio cioè gli accorciavi la giornata a 20 ore fermo restando tutto il resto gli aspetti di fisiopatologia anche a livello microscopico sull'apparato cadevascolare erano gravissimi quindi accorciare la giornata non piace al nostro organismo perché il ritmo circadiano è non proprio 24 ore semmai un pochino di più questo spiega perché se viaggiate viaggiare verso est che accorcia la giornata il fuso orario è meno sopportato che viaggiando verso ovest dove la giornata la si allunga quindi andare negli Stati Uniti è meno disturbante che tornare dagli Stati Uniti per esempio sempre il concetto che l'organismo ha un suo ritmo endogeno free running scoperto nelle persone che hanno fatto quegli studi a frassassi chiuse nelle grotte li avrete letti per mesi dove il ritmo endogeno se togliamo luce e buio e qualunque sincronizzatore esterno dentro il nostro DNA è più lungo la giornata è anche di 25 26 27 28 ore quindi all'organismo piace più allungare che accorciare e allora questo studio che non era stato insomma molto considerato diventa importante nel momento in cui si parla di danni dell'ora legale e si comincia a vedere che con meccanismi vari alterare il sonno deprivare di sonno a seconda del gronotipo aspetti anche ambientali e se vogliamo anche lo stress del lunedì perché gli eventi avvengono verosimilmente lunedì una metanalisi di tutti gli studi fatti al mondo su quanti infarti si sono verificati dopo l'ora legale dopo l'ora legale di autunno quella che sta per venire non succede niente in autunno allunghiamo la giornata quello di primavera dove rubiamo anche solo un'ora è seguito nella prima settimana dal 5% di infarti in più questo è solo un dato sapete che c'è ormai una decisione della corte europea di abolire il cambio dell'ora legale è stato un po' congelato hanno dato una proroga perché c'era il covid ma non si potrà più ogni paese dovrà decidere se tenere quella solare o quella legale tutto l'anno ed è ormai deciso dall'Europa proprio perché il click ogni 6 mesi non piace all'organismo pensate che costa un punto di pill della comunità europea questa cosa che sembra stupida fra ricoveri incidenti stradali e il mito dei carrozzieri il giorno dopo il cambio dell'ora legale ci sono un sacco di incidentini crisi ansioso-depressive c'è un mondo anche in economia la banca d'italia si sta occupando anche di questo sto lavorando con un collega della banca d'italia perché c'è una ricaduta importantissima l'italia ha mandato una lettera dice non ce ne frega niente la comunità europea noi continuiamo a fare così adesso quando finirà il covid non credo che si potrà continuare a dire facciamo quello che ci pare perché la francia ha già scelto per esempio l'ora legale i paesi del nord l'ora solare perché chiaramente potrebbe essere che l'europa divide in due per esempio in base questo lavoro era uscito nel 19 e aveva creato un bel po' di casino perché a cominciare dal Canada dove l'ora legale era prima a marzo non veniva al 31 come da noi ma veniva prima quella è un'intervista che fece sul National Post che poi è andata in giro dappertutto BBC eccetera perché poi sono venuti fuori un altro dato per esempio pare che le sentenze che vengono ci sono le letterature importanti i giudici il giorno dopo il cambio l'ora legale sono più cattivi combinano delle pene più pesanti ma dopo ci sono le variazioni a parte l'economia poi c'è un argomento che è diventato importantissimo l'illuminazione l'illuminazione notturna questo per esempio l'illuminazione presa dai satelliti americani della difesa le zone più illuminate d'America sono quelle che corrispondono a minor sonno minor tempo a letto maggior sonnolenza diurna quindi tutta una serie di eventi che non approfondisco perché ci sarà anzi saluto dottoressa Rescazzi che è qui per conto di Era Luce il CDA di Era Luce perché l'affronteremo in altro momento e comunque è un determinante della salute ma non c'è solo la luce esterna c'è la luce domestica i bambini i ragazzini ormai sono abituati a usare computer device smartphone alla sera fare i social la gioventù sta diventando gufo e c'è tutta una serie di patologie il bambino potrebbe avere delle patologie metaboliche o dei disturbi del sonno solo per il fatto che alla sera gli si lasci al cellulare e in ore non consentite e si espone alla luce blu che ha un potere di bloccare la melatonina molto di più della luce naturale ed è dose dipendente quindi quante ore io sto allo smartphone quante ore io se non l'ho virato se non ho gli occhiali apposta se non ho i filtri io rimango con la melatonina bloccata non dormo e quindi vado avanti vedete con un titolo molto bello in inglese su nature era uscito perché c'è la rima andare a letto tardi e svegliarsi tardi dal punto di vista cardiometabolico non va assolutamente bene quindi adesso un'accezione un pochino più aggiustata prevede orologio biologico principale orologio secondari aspetti genetici naturalmente aspetti di tipo ambientale il cronotipo se c'è desincronizzazione o meno le modifiche degli ormoni e in questo caso l'aspetto finale sulla cardiopatia ischemica o per esempio sulla nuova sindrome tacotsubo che è una patologia nuova del famoso infarto senza infarto della donna in carriera o comunque stressata e si può vedere che la disruption quindi la desincronizzazione comincia fin da bambini naturalmente poi la gravità è per le età più avanzate ma fin dall'irritabilità il poco sonno eccetera già il bambino può soffrire della desincronizzazione dei ritmi e essere desincronizzati e avere un disturbo si potenziano in maniera bionivoca per un medico curare con l'orologio ha senso assolutamente sì l'argomento della cronoterapia l'abbiamo affrontato sia Radio 24 con Nicoletta più volte perché molte volte i farmaci vengono dati quasi a caso o comunque tutti insieme alla mattina una sporta di farmaci così quando ogni farmaco avrebbe la sua ora per l'azione che deve andare ad effettuare oltre che per le caratteristiche del farmaco quindi curare per l'orologio sì ricordando che le malattie non vengono a caso alla fine degli anni 90 abbiamo cominciato a studiare questo fenomeno tra l'altro qua a Ferrara e ormai quasi tutte le patologie sono state schedate acute dove ci sia un momento acuto sono state schedate per l'ora più frequente o per il periodo della giornata dove gli odds sono aumentati in particolare la cardiopatia ischemica in particolare l'infarto Time all'epoca sono passato un po' di anni le interviste che mi aveva fatto era quando pensi di avere il tuo attacco cardiaco sicuramente non è un titolo che potresti presentare nella tua trasmissione perché è abbastanza terrorizzante poi ecco erano ancora gli anni 90 avevamo pensato un gruppetto di ancora quasi oroscopisti che se c'erano dei ritmi nel cuore si poteva pensare di fare cronoterapia pensate che i geni sono stati scoperti i geni clock che hanno sdoganato la cronobiologia sono della fine degli anni 90 quindi proprio non se ne parlava proprio e poi adesso arriva che l'American Heart nelle sue pagine pubbliche parla della mattina del killer silenzioso e del fatto che per esempio in Italia si può fare la cronoterapia noi la facciamo anche solo spostando nei nostri ambulatori i farmaci mattina e sera specie quelli per l'ipertensione e poi arriva Science due anni fa e dice che non c'è solo la medicina di precisione genetica per fare medicina di precisione personalizzata ma altrettanto importante è la medicina circadiana quindi geni e aspetti circadiani che tra l'altro vanno in accordo stretto potranno permettere la personalizzazione degli aspetti di medicina come diceva poco fa il ministro un esempio anni 50 questo ricercatore e il suo gruppo scoprono i corticosteroidi il cortisone 1950 premio Nobel il cortisone ha un picco che si fa al mattino tutti sapete che si prende al mattino perché essendo il momento della giornata in cui c'è già il picco più alto prendendolo si riduce l'effetto collaterale tipico da cortisone che potrebbe essere l'aumento della glicemia l'obesità eccetera però ci sono delle malattie come le artite reumatoide dove le persone alla mattina quando si svegliano non sono capaci di muovere le articolazioni nelle forme gravi sono proprio bloccate con un dolore incredibile adesso sappiamo che le citochine sono prodotte dalle 2 alle 4 di notte i mediatori dell'infiammazione che danno a questo problema e vedremo che anche grazie a dei meccanismi biotec sono usciti dei farmaci che si assumono alla sera a base di cortisone il cortisone alla sera sarebbe il più sbagliato del mondo perché bloccherebbe l'asse ipofisi ipotalama sul lene ma in questo modo controllato lo si assume prima di andare a letto e comincia a fare effetto fra le 2 alle 4 di notte come fosse una bomba intelligente che attacca le citochine in quell'ora la paziente si sveglia che muove le dita non ha più questo rigore e sta meglio questo è uno degli esempi per esempio in terapia pratica e adesso si sa per esempio che prendere i fans questo è uno studio sulla frattura post frattura siccome di notte predominano i geni favorevoli al riassorbimento cioè alla produzione del callosseo mentre alla mattina predominano verso mattina i mediatori dell'infiammazione prendere i fans gli antidolorifici al mattino alla sera cambia molto in uno si riduce veramente l'infiammazione e nell'altro si rischia di andare a colpire anche la parte sana della formazione del callosseo quindi c'è un'ora anche per i farmaci antifiammatori abbiamo vedete per il dolore un sacco di geni di cui sappiamo come sono controllati che sostanza producono in quale cellule e ne abbiamo un'altra fila di cui sappiamo i geni da chi sono controllati ma non sappiamo ancora in quale tessuto organo sono prodotti quindi già il meccanismo circadiano del controllo del dolore è molto complesso e sarà probabilmente un futuro della ricerca in campo di terapia ecco che si arriva alla possibilità di definire con dei modelli o degli algoritmi quando andare a colpire in oncologia per esempio quando andare a fare in modo che l'azione del farmaco sia richiesta vedremo che una delle acquisizioni più importanti è siamo tutti abituati a sapere che la chemioterapia in oncologia uccide cellule sane oltre alle cellule malate e ci sono degli effetti collaterali importanti di fare la chemio fatta in certe ore con infusori e calcolando vedremo grazie alla biotech ogni persona qual è il momento dell'infusione l'efficacia rimane molto elevata quindi non c'è una differenza sulla mortalità però la qualità della vita aumenta molto perché si riducono di molto gli effetti collaterali quindi anche questo il fatto di migliorare la qualità della vita pur rimanendo magari un end point di sopravvivenza è decisivo in terapia ecco per esempio alcuni accenni sulla cronobiologia e le biotecnologie anche qui andiamo indietro perché questo è Santorio Santorio non è molto noto ma era della cerchia degli amici di merenda di Galileo è nato a Capodistria dopo è diventato che allora era veneziana quindi era professore di quella che sarebbe la fisiologia generale adesso si chiama medicina teorica e pensate che lui anche se non è così noto si era laureato ci aveva fatto il corso di studi in due anni meno che Vesalio un anno meno di Harvey cioè era stato più veloce di tutti questi che sappiamo essere dei guru dell'epoca e lui appunto era amico di Morosini dei Morosini quindi famiglia che gli permetteva di essere nei cenacoli con Galileo con Fabrizio d'acqua pendente con persone di un certo livello lui si dedicava a studiare il cuore e il peso ha inventato il termometro il termometro ad aria ha inventato il pulsilogio che è il primo diciamo apprezzo device per misurare la frequenza cardiaca e poi siccome questa magari è per Biotec ma c'è anche la parte cronobiologica ha inventato questa specie di scatola di box dove lui stava dentro stava lì mangiava lì faceva la pipiglia e tutto il resto e misurava tutto misurava il peso teneva un diario e ha fatto il ritmo del peso corporeo della torribilità dell'urina e di quant'altro siamo nel 600 ed era sostanzialmente possiamo chiamarlo all'epoca un biotecnologo di grande livello poi invece adesso andiamo alle cose di cui io conosco pochissimo ma i colleghi qua sono molto bravi il fatto che per la cronoterapia del cancro si possa andare quindi alla personalizzazione attraverso la ricerca di modelli trascrizionali oppure si cercano biomarkers personalizzati sempre grazie a prelievi ematici del transcriptoma oppure si mappano i geni per poter personalizzare la cronoterapia sembra fantascienza ma sono tutte cose che si fanno in molte parti del mondo ma anche in Italia in laboratori specifici di base per esempio per la crononcologia anche i farmaci ovviamente nel farmaceutico come diceva l'elettrice Le Macciotti prima c'è un know-how importante perché la maggior parte dei farmaci verranno sviluppati anche in questa ottica cioè farmaci intelligenti che devono arrivare in certe ore ridurre gli effetti collaterali e potenziali l'efficacia e lo scopo di un farmaco quindi dobbiamo arrivare a quell'obiettivo per esempio ottimizzando l'infusione con dei cronoinfusori temporizzati i colleghi francesi che per primi cominciarono a farlo negli anni 80 alla fondazione Rothschild a Parigi dove avevano un sacco di denari cominciarono a fare questo tipo di lavoro ed ebbero dei grandi problemi perché per molte chemie andavano fatte la notte allora l'organizzazione ospedaliera prevede che di giorno è il massimo delle forze di notte molto meno quindi lotte sindacali vi potete immaginare cosa è successo per dire che bisognava spostare le chemie di notte per alcuni farmaci per alcuni tumori e allora studiarono per primi i cronoinfusori computerizzati personali per cui invece dell'infermiere che doveva metterti le flebine e cambiarlo i farmaci avevi questi cronoinfusori personali che ognuno col computer stava a letto nella sua camera e riceveva la chemio in base a quello adesso c'è da tante parti ma allora negli anni 80 era una novità assoluta in Francia in Europa insomma poi per esempio qui dopo c'è Stefano Manfredini per costruire i farmaci da molti anni ormai per esempio si studia come può essere una compressa come devi crearla dal punto di vista farmaceutico perché si liberi la sua sostanza quando tu vuoi che deve essere liberata allora si va da quelle più semplici le gastroprotette devono fare in modo che passano allo stomaco non vengono sciolte e vengono sciolte dopo nel duodeno per esempio in modo che i farmaci che fanno male allo stomaco passano allo stomaco e vengono liberati dopo in alcuni casi invece controlli il tempo come quelli dell'antiteromatoide dove fai in modo che devono essere rilasciati in quell'ora quando tu sai che c'è l'effetto da raggiungere un piccolissimo accenno al mondo vegetale ma perché perché ci sono a parte gli invitati ma perché la cronobiologia abbiamo visto che nasceva con Androstene di Taso con la Tamarindu Sindaca bene questo è Jean-Jacques D'Artoux de Marenne era una tre volte accademico di Francia cioè ha una serie di titoli accademico Royal Academy Academy di San Pietroburgo uno studioso tutto tondo pieno di invenzioni una volta un giorno decide di guardare di poter ripetere l'esperimento che aveva letto nella tavoletta di Androstene e vede che anche se chiudi la tapparella o rimetti in una scatola senza luce la pianta indipendentemente da luce buio ha il suo ciclo ed è la prima descrizione in botanica di un ritmo circadiano al di là di quella di Androstene per lui è una ricerca di poco conto non la pubblica neppure perché ha centinaia di altre pubblicazioni ma all'epoca si poteva che uno la pubblicava per un altro quindi il suo amico collega di Accademia Marchand che aveva capito che era molto importante non gliela ruba la pubblica a nome di quindi si chiama osservazione botanica di Demaren scritta da Marchand e poi tutti sanno quella di Linneo dell'orologio delle piante dei fiori che ha costruito questo orologio che i fiori si schiudevano ad ogni ora quindi tu leggevi l'orologio in base è forse come la settimana di Mystica il più copiato del mondo hanno provato a farlo da tante parti ma non riesci a farlo perché lui ci ha messo non so quanti anni per studiare le 46 specie che contengono l'orologio ricordando che però l'ha fatto a Uppsala quindi l'ha fatto nel nord della Svezia quindi con determinati tipi di luce quindi chi lo voleva semplicemente provare a fare ha fallito perché doveva metterci i suoi anni per studiare nel posto dove ti trovi una cosa interessante è che nella economia della vita del mondo l'impollinazione è particolarmente importante è un fenomeno che aiuta la vita la rivoluzione della vita l'impollinazione non è a caso perché c'è un mondo competitor cioè i fiori cercano di avere gli insetti e di averli prima degli altri quindi c'è una specie di gara per essere sulla propria bancarella più attrattivi e c'è questo lavoro molto bello di pochi anni fa vedete che con un gioco di parole invece di time is money time is honey perché questi ricercatori di Israele di Gerusalemme hanno dimostrato come i ritmi circadiani dell'ape e i ritmi circadiani del fiori sono sincronizzati in modo da essere attrattivo l'uno e recettivo l'altro per poter favorire le api dell'impollinazione poi adesso 1900 se non ricordo male 32 non riesco a leggere bene viene definito il ritmo circadiano dei legumi per esempio adesso noi medici queste cose non le sappiamo c'è il concetto di olobionte cioè il meccanismo ospite con i suoi microorganismi simbionti e per esempio adesso si vede che anche l'orologio biologico del fungo per esempio che attecchisce sulle radici di un albero insieme ai ritmi circadiani dell'albero sono in grado di determinare le azioni in questo caso per esempio più delle volte positive che sono quelle di arrivare ad avere per esempio difesa dai patogeni difesa dagli stress apporto di alimenti nutritivi contributo al metabolismo di crescita c'è un sacco di lavoro nell'angolo alimentare su questo per esempio la difesa nei confronti dei patogeni è legata agli cittadiani da parte delle piante questo vedete per esempio è un esempio semplice su come per esempio gli afidi ci sono geni specializzati o il dare una luce particolare la luce rossa in particolare di notte garantisce un'attivazione dei fitosomi e tutta una serie di azioni favorevoli nei confronti di una serie di parassiti o di germi infestanti per cui si può organizzare la difesa della pianta ricordando o modificando i geni circadiani e l'efficacia stessa di un erbicida può dipendere dalla manipolazione dei geni circadiani un altro argomento per le piante molto importante è lo sfruttamento dell'acqua ci andiamo incontro a periodi di essicità per cui meno acqua viene consumata e anche da questo punto di vista l'orologio circa di anno influenza gli effetti a lungo termine ho tutta la letteratura verità del 2020 e 2021 mi sono trattenuto negli ultimi mesi anche sulle acquisizioni recenti sull'efficienza del consumo di acqua sulla modifica di aspetti complessi che neppure conosco dei meccanismi per produrre o per modificare l'amido per l'uptake della CO2 senza modificare l'orologio biologico ma per favorire di notte questo tipo di meccanismo e consumare meno acqua oppure questo riguarda per esempio l'arachide l'arachide sapete che è una fonte di nutrimento ideale perché ci sono molte proteine e ci sono degli oli insaturi e per l'alimentazione delle popolazioni via di sviluppo sarebbe molto utile al difetto che la siccità la compromette e quindi ci sono allo studio tutti i meccanismi per generare delle specie di arachidi che siano più resistenti alla siccità e consumino meno acqua e questo sarebbe importante a livello mondiale per l'alimentazione della popolazione e poi anche la resistenza alle basse temperature delle piante è regolata dai ritmi circadiani sia la tolleranza al freddo che è per esempio la resistenza al congelamento e poi vedete per esempio in questo caso vado veloce questo siamo sul fatto del cold stress e vedete la differenza a livello anche visivo di come si modificano in base ai ritmi circadiani fioriture e crescita voglio andare svelto per non annoiare anche per quello che riguarda nel 2020 è stato il centenario della scoperta del fotoperiodismo e questi autori giapponesi nel 2020 quindi a cent'anni si sono fatti un articolo celebrativo per dire quanti geni erano già riusciti a clonare avevano già clonato E1, E2, E3 già negli anni 70 e stavano procedendo con i geni dei ritmi circadiani questo è molto carino cinesi nella crescita dell'orzo l'orzo senza buccia esposto al freddo mettendogli un po' di melatonina guardate la differenza e modificando quindi il ritmo circadiano guardate a destra la differenza rispetto alle temperature vedete 25 15 5 gradi mi sembra comunque la barra dove c'è la melatonina aumentano le radici aumenta la foglia aumenta cioè risponde al freddo in maniera non solo pareggia ma addirittura migliora semplicemente modificandogli il ritmo circadiano dandogli un pochino di melatonina questo va poi dopo ci sono gli studi sull'orzo sul grano dopo ecco immaginate l'agroalimentare tutto quello che può portare dei vantaggi a livello mondiale e tutta roba che se non ci fossero le bioteche bioteche a fare i transcriptomi i network genetici le mappature sviluppare questi modelli computazionali è il futuro per quello che riguarda non solo la medicina ma anche aspetti di cui non ne conosco niente ma avremo qua gli esperti su questo argomento finisco questa è l'ultima e torniamo un attimo alla parte medica siccome si sa che un'alimentazione ricca di grassi altera è un desincronizzatore dei ritmi circadiani e desincronizza anche il microbioma intestinale questi cinesi con il loro aglio sono andati a studiare probabilmente il nostro è anche meglio però loro lo sono andati a guardare questo tipo di sostanza dell'aglio nero sono in grado di modificare i geni circadiani del microbiota e fare in modo che si ottenga un non danno oppure addirittura un miglioramento anche per il fatto di aver assunto una dieta sbagliata quindi questi topolini naturalmente sono esperimenti su topolini ma è un argomento assolutamente in corsa bene io ho finito devo aver preso anche troppo tempo e comunque rubo sempre questa frase a Gruccio Marx che è un idolo quando faccio le presentazioni come oggi è stato bellissimo ma non è stata questa volta grazie adesso darei la parola a Nicoletta perché abbiamo alcuni ospiti che sono pesantemente impegnati oggi in concomitanza c'è internazionale come tutti sanno e trattandosi di ospiti che sono molto coinvolti sia perché sponsor sia perché attivi gentilmente sono venuti da noi però poi devono andare e dopo invece faremo una tavola rotonda grazie e allora grazie tanto a professore Martellini ci ha fatto sognare ma ti bravo tanta scelta che è una un'idea di metagoria ma di futuro e qui abbiamo io la ricerchia che direi qui con noi questa mattina il presidente della Camera di Commercio è un'idea di che 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 è un'idea di abbiamo bisogno di lei perché volevamo commentare un po' gli interventi che io lascio questo prendo questo è uguale tutte e due grazie grazie teneteli vicini se potete li teniamo vicini vicini ma stiamo vicini Università di Ferrara è una grande ampia articolata offerta di corsi di didattica sulle biotecnologie abbiamo professionisti si stanno preparando si stanno preparando e quindi cercano anche una professione che metta a frutto le competenze che hanno acquisito e allora le chiedo quale potrebbe essere l'impatto l'opportunità offerte dalle biotecnologie sul territorio perché questi ragazzi saranno pronti e preparati allora intanto intanto buongiorno a tutti grazie dell'invito grazie della lezione del professor Maffredini devo dire oggi ho imparato tante cose da questa lezione si capisce bene alcuni alcuni argomenti alcuni obiettivi anche della giornata di oggi ad esempio l'impatto sul sistema economico di quello che abbiamo sentito prima semplicemente anche in termini occupazionali cioè dell'efficienza dell'occupazione all'interno dell'azienda è un'importanza notevolissima sulla quale credo che possiamo sviluppare e interagire sviluppare delle grandi collaborazioni però brevemente vediamo qual è il contesto economico per arrivare poi alla risposta della sua domanda noi abbiamo presentato nei giorni scorsi nell'ambito del nostro osservatorio dell'economia i dati economici relativi a Ferrara che non si discostano da quelli nazionali che ci danno una dimensione particolare nuova per questo ci tengo a citarli e lo farò brevemente ovviamente nei tempi però magari ci riserviamo in altre occasioni di approfondirli io credo che il rapporto sistema economico e università sia fondamentale non sfuga che il bando più importante da un punto di vista economico della nostra camera di commercio è proprio con l'università allora artigianato più 10% non cito i decimali industria quindi produzione più 18% edilizia più 12% export più 26% siamo in una provincia che spesso viene rappresentata come l'ultima ruota del carro della regione nazionale ma non è così il dato del più 26% di export da una dimensione completamente diversa sono dei segnali importanti assolutamente di un sistema economico che ha capito per esempio in questo caso che attraverso un export si possono raggiungere i trend di crescita di alcuni altri paesi europei attenzione che in questo momento l'Italia e l'Emilia Romagna e anche la provincia di Ferrara ha trend di crescita superiori in alcuni casi rispetto ai paesi europei che invece noi consideriamo essere tra i nanti dell'economia la previsione di crescita è più 5,7% guardate che è importante 2020 era meno 8,3% perché cito questi dati perché siamo di fronte a mio avviso ma credo che i dati lo dicano in maniera importante perché il dato è straordinariamente importante rispetto poi alle politiche economiche i dati ci dicono che siamo di fronte a un'occasione di ripartenza e di crescita straordinaria se mettiamo insieme questi dati con le grandissime ingentissime risorse sia nazionali PNR sia europee capiamo bene che noi abbiamo di fronte un'opportunità straordinaria che è un'opportunità che va perseguita e va perseguita come? e qui arrivo alla risposta alla tua domanda va perseguita insieme io credo che questa occasione la complessità che stiamo vivendo oggi anche qua faccio il classico passo indietro per sottolineare ancora di più l'importanza di questi dati il nostro territorio viene partendo dal 2008 dalla crisi economica più grande del dopoguerra ai due terremoti del 2012 2012 sì 20 maggio e 29 maggio che sono chiamati non a caso il terremoto economico perché a Venero nella regione che è l'Emilia Romagna più alta densità di imprese e hanno avuto una ripercussione molto forte anche nella nostra provincia poi la pandemia adesso non cedo perché la conosciamo bene perché la stiamo vivendo abbiamo le mascherine anche oggi dal 2008 oggi è un periodo che è un sistema economico molto importante quindi oggi ripeto se veniamo da un periodo di questo tipo con dati di questo tipo significa che dobbiamo avere la grande responsabilità di partecipare tutti insieme e io credo che in questo l'università sia fondamentale non lo dico oggi per il metropolo interno ma lo dico da sempre il dato prima dei nostri bandi l'ho già citato lo sottolineo dico fin da ora che fin tanto almeno che io rappresenterò questo ente sarà prorogato per tutti gli anni è un dato fondamentale la complessità non la possiamo superare solamente se insieme facciamo quel passo in avanti che ci consente di trovare delle nuove soluzioni qui arrivo la risposta della domanda in una situazione di questo tipo quali sono le professionalità che chiedono le imprese sono professionalità di altissimo livello di altissimo profilo paradossalmente sempre i dati in particolare di Excelsior ci dicono che nella prospettiva di crescita che dicevo prima le nostre imprese le nostre aziende cercano un personale particolarmente formato cioè cercano qualità nella formazione quindi oggi l'alta gamma di formazione e la ricerca rappresentano un'opportunità non solo di crescita del territorio ma un'opportunità occupazionale e da questo punto di vista io credo che il sistema economico assieme all'università si debbano interrogare per esempio a Monte a Valle scusate già lo stanno facendo su quali siano le professionalità che oggi richiedono maggiormente le aziende io credo che questo ripeto è già un percorso fatto un percorso che noi possiamo che possiamo anche sviluppare in futuro perché do un altro dato che mi piace particolarmente e cioè all'interno del nostro studio abbiamo notato come in questo periodo sono cresciuti anche i brevetti questo ci dà un'ulteriore dimensione della grande importanza della relazione tra università tra mondo della ricerca tra le biotecnologie anche come settore interdisciplinare rispetto a una crescita del territorio una crescita delle imprese quindi io credo che non solo la giornata di oggi sia particolarmente importante per il sistema formativo di alta gamma che offre l'università ma sia soprattutto importante oggi io credo che anche di questo stiamo parlando per lo sviluppo per la crescita del sistema economico nella sua inchierezza concludo dicendo che ormai è spucchevole come spesso sento rappresentato ovviamente non qua questa divaricazione tra sistema economico e sistema sociale io credo che un sistema economico sano che cresce e anche un sistema sociale una coesione sociale una qualità della vita migliore grazie grazie dottor Domoni grazie soprattutto per questi segnali molto positivi ci ha raccontato che il territorio ci sta dando e noi abbiamo bisogno soprattutto in questo periodo di guardare facciamo una cosa usiamo l'asta così guardiamo l'asta è più comodo così lo spostate perfetto grazie 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 dottor Govani a proposito di territorio mi alzo così grazie grazie molte e a proposito di territorio parliamo di una in realtà direi unica in Italia che associa molte aziende italiane leader nella produzione e nella commercializzazione dell'ortofrutta e io lo vedo già lì perché io lo conosco voi lo conoscete perché gioca a casa ma lui gioca un po' ovunque sempre nei media io siamo siamo tutti i suoi fan il dottor Paolo Bruni presidente CSO Italia perché perché tutte le volte che nelle trasmissioni o i giornalisti parlano di promozione del Made in Italy per quanto riguarda l'ortofrutta e si arriva a lei arriva a lei Cavalia Bruni allora proprio con lei vorrei prendere qualcuno qualche spunto della relazione molto interessante del professor Manfredini sulla cronobiologia ma soprattutto sulle biotecnologie per vedere un po' questa relazione e mi piacerebbe avere il suo punto di vista piacerebbe a tutti noi avere il suo punto di vista su quanto potrebbero le biotecnologie e la cronobiologia impattare nella nostra filiera agroalimentare e soprattutto in che modo vado va bene che lei è uno mediatico ma che anche la voce d'atto ma magari forse il microfono aiuta grazie grazie a lei che ha un po' esagerato francamente nella mia presentazione ma la ringrazio anche di questo e cerco di dire senza piageria né per il professor Manfredini né per le biotecnologie quanto effettivamente di questi aspetti l'agricoltura in generale e l'ambito che più mi vede impegnato in questo momento quello dell'ortofrutta non possano fare a meno non possono fare a meno è obbligato che avvenga questo perché altrimenti non c'è via d'uscita cerco di di motivare questa dichiarazione perché al di questo vabbè questo vuol fare bella figura con Manfredini in effetti io avrei bella figura avrei motivo di farla bella figura con lui perché lui mi stregò le prendo 30 secondi 30 secondi e la lui mi stregò qualche anno fa quando io attraverso Trevisan lo conobbi perché pur essendo entrambi ferraresi da vecchia data io in particolare non ce l'aveva frequentati ci presentò all'Expo di Milano 2015 Sergio Trevisan e lì nacque subito un piccolo link ci fu empatia immediata e dopo un po' dal di là del suo intervento che lì verteva sul dimostrare a chi ci ascoltava degli effetti benefici del consumo di pere sulle attività renali e quindi ho detto questo è un nostro amico è meglio tenerselo caro e poi dopo mi stregò un'altra volta dopo qualche giorno che ci vediamo qui a Ferrara perché mi fece compilare un questionario di dieci domande dal quale lui ricavò che io ero una lodola perfetta e in effetti ci ho pensato un po' ho detto certo mi alzo al mattino alle 5 al massimo alle 5 e mezza e non posso essere un gufo perché quando è notte vado inevitabilmente a dormire e allora fu questo un altro incipit che mi fece tenere in considerazione il professor Manfredini detto questo che è la parte così un po' più scherzosa ma veritiera vengo al tema del perché non ne possiamo fare a meno noi oggi l'agricoltura gli agricoltori italiani ed europei non solo quegli italiani quegli italiani magari ancora di più perché hanno investito maggiormente negli aspetti salutistici delle produzioni rispetto anche certamente ad altri paesi del mondo ma anche rispetto ad altri paesi europei cioè siamo stati molto rigoristi in questo aspetto del contenimento della chimica dell'utilizzo dell'Emilia Romagna è stata la prima regione 30 anni fa a introdurre l'agricoltura integrata quindi un rispetto delle produzioni e un rispetto del consumatore oltre che dell'agricoltore perché è il primo a intossicarsi in mezzo ai campi se c'è qualcosa che non va quindi pur essendo questo adesso abbiamo anche un'indicazione europea che è la strategia farm to fork che ci dice 3-4 cose che dico qui in nanosecondi che sono che entro il 2030 dobbiamo ridurre del 50% del 50% che vuol dire la metà dei fitofarmaci nelle campagne dobbiamo ridurre per coloro che fanno degli allevamenti di bestiame o di qualsiasi altro tipo di animale ridurre del 50% l'uso di antibiotici ridurre del 25% l'uso dei fertilizzanti quindi uno dà del concime alle produzioni perché producano di più no ridurre del 25% portare il biologico al 25% di tutto ciò che si produce oggi siamo all'8-9 quindi c'è strada da fare e produrre di più inquinandoli meno ma anche lasciando il 10% dei terreni a riposo in rotazione uno dice ma come si fa a fare tutte queste cose qui quando per fare tutte queste bisogna anche tener presente di ciò che è in atto in questo momento che cos'è in atto sempre nelle campagne e nelle difficili mestiere dell'agricoltore è in atto un cambiamento climatico senza precedenti lo vediamo l'abbiamo visto in quest'ultimo anno le gelate di aprile hanno portato via il 70-80% della produzione di alcune specie frutticole cioè perché è gelato al 10 di aprile cioè una cosa si qualche fenomeno ma non ecco così come delle siccità prolungate insomma ci sono dei fenomeni di cambiamento il famoso climate change che non avevano precedenti nella storia e col quale bisogna imparare a convivere perché non sono eccezionalità sono l'ordinarietà a fianco di questo c'è un avvento di insetti nocivi alieni che non c'era nel passato è il caso della cimice asiatica che non si era mai conosciuta e che ha devastato intere produzioni ci sono delle mattie fungine che aggrediscono le piante tipo la maculatura bruna insomma l'agricoltore deve fare i conti con una serie di problematiche che sarebbe facile ecco non vado oltre sono già arrivato alla fine sarebbe facile combattere tutti questi problemi se si poteva si potesse non sono un sostenitore di questo voglio solo fare un esempio se si potesse fare come si faceva un tempo un utilizzo smodato della chimica e allora vedrai che quegli insetti e quei parassiti voglio dire le prendono nella guerra tra chimica e insetti ma non si può fare questo ed è giusto non fare questo perché noi viviamo in un ambito di ecosistema che deve essere sempre più sostenibile ma dobbiamo lo stesso ugualmente però riuscire a produrre e allora cosa rimane non la chimica la devi diminuire produrre devi produrre di più perché ci dicono che nel 2050 saremo in 10 miliardi rispetto ai 7 miliardi di oggi e quindi le biotecnologie e anche ho sentito e guardato bene anche la presentazione del professore di oggi la cronobiologia che ci ha fatto vedere anche per poter fare delle produzioni con minore impiego di acqua l'acqua sarà l'altro grande bene prezioso della terra quindi noi dobbiamo per forza anche se la chiudo con una battuta come piace a me anche se il professor Mottredini non mi fosse risultato simpatico sei anni fa noi dovremmo trovare il modo di diventare amici ugualmente perché l'agricoltura non può fare a me delle biotecnologie grazie 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 io so che il Cavalier Muni e il Dottor Gomoni hanno degli impegni che devono scattare grazie per essere stati con noi grazie per il vostro contributo costruiamo insieme anche ai prossimi relatori una sorta di puzzle ciascuno porta un tassello intanto io posso chiamare i nostri relatori intanto che il professor Manfredini si prende tutti i complimenti del presidente Bruni allora sono con noi il professor Cristiano Bertolucci Dipartimento Scienze della Vita e Biotecnologie dell'Università di Ferrara il professor Stefano Manfredini ordinario Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie alle sezioni Farmac e Prodotti Salute grazie e Eugenio il dottore Eugenio Bolognesi è già presidente del Consorzio Italiano di Raisti e aggiungo scrittore posso? grazie grazie e bisognerebbe aspettare il professor Manfredini che fa un po' di onori di casa e si prende grazie no 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 lei lei e poi anche il no no lei sì e poi abbiamo anche l'altro vi chiamate tutti Manfredini grazie lo so lo so che non si è mi ha detto ma grazie mi allungo intanto che l'altro professor Manfredini arriva facciamo un po' di stretto un giro di tavolo ecco io stavo già intrattenendo le dicendo un aspetto che di cui voi non pensavate di trovare nella relazione anche a sorpresa perché il dottor Trevisan volentieri il dottor Trevisan è iniziale mazoni di gruppo e così la domanda si anticipa le domande devono essere cattive a sorpresa per cui è segnato è già rassegnato sì ma io mi metto qua volentieri anche il professor Manfredini mi chiedo solo di passarvi il microfono per parlare cioè in base a chi parla tutti e due tutti e due uno è per l'aula e uno è per il streaming quindi in base a chi parla fatelo passando se vuoi introdurre gli ospiti il professor Bertolucci il professor ordinario della nostra università è il cronobiologo del mondo animale che in realtà ha tante altre cose però è grande esperto internazionale della cronobiologia degli animali in particolare dei pesci a cui si è dedicato era partito di scuola dal gruppo con i lizards con l'ucertole con i ramarri e poi è passato alle propostità degli abissi dove non si sa come riescono ad avere un circadiano a 10.000 metri sott'acqua con il pesce zebra è famoso per quello oggi lo disturberemo per altre cose il professor Manfredini mio omonimo non siete parenti anche se non si è io non sono parenti non siamo parenti ma a fine dura condividiamo alle volte degli sbagli di mail naturalmente in cui scrivono l'uno o l'altro a me per chiedere come si fa andare all'oreallo a lui magari chiedono per la pastiglia è stato preso di farmacia e il nostro grande esperto di una volta nel corso si chiamava chimica e tecnologia farmaceutica adesso abbiamo tutti dei nomi già il nome lo identificava Ferrara non c'era da tante parti non era solo farmacia e poi lui lo freghiamo perché ha questi studi importantissimi master in scienze cosmetiche quindi lavora davvero con le grandi aziende mondiali dove le persone che si laureano si trovano trovano occupazione eccetera abbiamo appunto il dottor terzi a sorpresa era invitato ma sembravano protezioni nide è venuto mazzoni gruppo nessuno lo deve spiegare non c'è una frutta che si compra al mondo che venga da mazzoni gruppo e poi il dottor bolognesi che è stato tante cose e molto recentemente è stato presidente del CISO del Consorso Italiano di Vaini direttore generale prima lo era di Bonifichi insomma ha una storia importantissima e poi vedremo che ha come scrittura e in questo modo ho presentato un minimo di chi sono e così tu adesso puoi attaccarli va bene no attaccare ma io ho fatto attaccare io senza di fare proprio delle domandine proprio così anche un po' suggerite professor Bertolucci vengo a lei perché io mi occupo di salute ho anche una trasmissione dove parliamo solo di alimentazione io lo so tutte le mattine io mi sveglio con lei allora io sono un tormento sappiamo almeno io ho capito anche dagli interventi del professor Fredini che l'orario dei pazzi è importante è fondamentale assolutamente e quindi bisogna cadenzarli è anche importante il digiuno notturno l'abbiamo scoperto noi non ha detto i lavori in questi ultimi anni di digiuno si parla anche di digiuno intermittente e per gli umani questo inizia a essere chiaro mi chiedevo se tutto questo è vero anche nel mondo animale se c'è un orario ideale anche nel regno animale per esempio il pesciolino Nemo lei di questo pesciolino con il pesciolino Nemo lei che rapporto ma bellissimo come tutti solo per solo per i ricordi di quando diciamo guardavo i film Disney con le mie figlie quindi Nemo è stata una bella scoperta grazie a una collaborazione che abbiamo avuto l'università di Ferrara con l'università di Oldenburg nel nord della Germania e perché Nemo ha una storia tutta particolare perché Nemo che cosa cosa succede formano queste coppie stabili i genitori si riproducono sulle barriere coralline e poi dopo aver curato in maniera molto amorevole le uova quando le larve schiudono c'è un fenomeno che noi zoologi chiamiamo la dispersione cioè non sappiamo perché ma queste larve appena nate devono uscire in mare aperto e poi tornare indietro e questo avviene in un momento specifico della loro vita avviene con un percorso dettagliato nello spazio e nel tempo cioè loro sanno dove andare quanto andare a largo e poi orientarsi per tornare indietro sulla barriera corallina dove sono nati e questo fenomeno un fenomeno quindi che deve essere organizzato nello spazio e nel tempo lo conoscevamo ed è molto interessante perché popolazioni diverse della stessa specie o specie diverse si comportano in maniera diversa fanno questo viaggio in momenti diversi con una durata diversa e con una strategia di ritorno diverso e quindi abbiamo voluto studiare l'orologio biologico e la sincronizzazione di questo fenomeno e per esempio ci siamo accorti che questa dispersione la fanno durante la notte quindi sono notturni all'inizio della loro vita poi tornano indietro e gradualmente durante quello che noi chiamiamo il development quando diventano giovani e poi adulti progressivamente diventano diurni quindi sono animali che nascono notturni e poi diventano diurni noi questo non lo facciamo noi nasciamo come uomini diurni e siamo una specie tipicamente diurni e ne va di conseguenza che anche i loro profili di alimentazione cambiano nell'arco della loro vita perché alimentarsi di notte alimentarsi di giorno e questo è un esempio semplice per dire che anche negli animali l'ora del giorno a cui viene dato il cibo è fondamentale quello che noi sappiamo ora nell'uomo furono le prime scoperte che fece Mike Menach e altri collaboratori nei topi quando si accorsero che c'erano delle variazioni dei profili di espressione dei geni orologio il fegato ad esempio rispetto al cervello e si accorsero che quelli del fegato erano modulabili dal cibo quindi se gli davi da mangiare in ore sbagliate alteravi la loro attività complessiva alteravi le espressioni di determinati geni e alteravi completamente il metabolismo quello che Roberto ha chiaramente spiegato i danni che poi fanno queste attività e nei pesci ad esempio che è il mio modello di lavoro dobbiamo fare le stesse cose stare dietro ai loro ritmi di attività per dare alimentazione quando loro si devono alimentare e quindi immagino che questi studi abbiano delle ricadute anche nell'organizzazione di progetti sull'acquacultura assolutamente sì questo è una cosa che io ho scoperto perché io sono nato come io sono un ozologo quindi sono nato come un biologo di base però nel corso della mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare dei colleghi con cui collaboriamo in Germania ma anche in Spagna più vicini alle esigenze dell'acquacultura quindi ora noi sappiamo ad esempio che quando ci sono le cosiddette avanotterie dove producono gli avanotti noi sappiamo che le uova dei pesci non vanno è meglio se noi non le teniamo in un ciclo luce buio normale ma le teniamo per esempio in un ciclo luce buio con della luce blu nello spettro del blu perché per esempio aumenta le percentuali di schiusa riduce le malformazioni aumenta la sopravvivenza ma noi sappiamo che i pesci vanno alimentati nei momenti giusti del giorno perché ci sono dei pesci che sono per esempio maggiormente in attività all'inizio del giorno e quindi vanno alimentati all'inizio del giorno dei pesci che invece per esempio preferiscono mangiare più tardi e quindi sarebbe meglio alimentarli più tardi ma addirittura in allevamento si sa che ci sono dei pesci che in certi momenti da diurni diventano notturni quindi l'ideale sarebbe non forzare di svegliarli e di largli di cibo durante il giorno ma darlo durante durante la notte e quello che stiamo facendo ora abbiamo vinto insieme a dei colleghi spagnoli portoghesi e olandesi un progetto europeo in un nuovo ambito dell'acquacultura che è quello dell'acqua ponica che ha l'idea di la dico in maniera molto semplice coltivare piante sotto i pesci e quindi l'idea è quella di allevare dei pesci che a loro volta con i loro escrementi alimentano le piante le piante purificano l'acqua e quindi si crea un circolo di questo tipo questo è già molto applicato l'acqua ponica funziona molto bene abbastanza ovviamente dobbiamo pensarla in scala più ridotta forse non in scala molto grande non è possibile per tutte le specie però sa lei che la comunità europea investe molto investirà molto nel blue growth e questa è una possibilità di sviluppo quindi quello che ora faremo abbiamo iniziato a fare da marzo e porteremo avanti nei prossimi 4 anni è un progetto di questo tipo per cercare di migliorare cosa? l'alimentazione perché la vera chiave rivolta nell'acquacultura è che dobbiamo andare a consumare meno proteine animali più proteine vegetali e dovremo cercare di alimentare i pesci con gli scarti nostri in questo modo creiamo una vera economia circolare che funziona bene ora faremo un esperimento credo se va tutto bene in un'acquacultura nelle marche in la prossima primavera dove faranno dei test di allevare delle orate che è un pesce che si può allevare anche in acqua in acqua dolce su letto di zafferano alimentandolo con scarti di di un'altra filiera diciamo farine di insetto per intendersi quindi in questo modo si cerca di fare un'economia circolare a chilometro zero in cui ovviamente un pesce molto raffinato per un certo livello di gastronomia un certo livello di ristorazione lo zafferano lei sa benissimo costa quanto l'oro e quindi potrebbe essere dei piccoli sistemi per portare avanti immagino che l'orata sia felice non sa poi che fine fa ma nel quanto vive? allora le orate per arrivare dipende quanto la fa mangiare sì ma con tutto questo zafferano però le posso dire che in realtà è giusto per dire una cosa uno dei miei principali interessi è studiare dei pesci molto strani che sono pesci della falda freatica del deserto della Somalia sono dei key fish sono completamente ciechi sono dei mutanti naturali che noi zoologi studiamo per capire l'evoluzione questi quelli che ho in laboratorio da me qua a Ferrara hanno più di 50 anni e ce n'è alcuni a Firenze che hanno più di 80 quindi sono dei pesci che in realtà sono molto longevi dei pesci che sono però però professore Manfredini noi umani siamo molto più semplici molto molto più semplici perché il professore si trova a studiare dei pesci che da notturni diventano giorni e poi c'è il pesce che deve mangiare alla mattina quello al pomeriggio e invece noi più basic più semplici vedi che l'ho tirato come un amo perché più semplice come teoria ma convincere le persone a mangiare di notte o a cenare presto o fare 12 ore di digiuno convincile il pesce lo obblighi esatto questo è vero dovremmo convincere però Roberto prova a convincere le persone a prendere i farmaci al momento giusto a comportarsi e alimentarsi in una maniera corretta è così professore ma pensavo di averle a proposito di pesce lanciato un amo perché la volevo qua seduta con noi c'è la sedia non importa come al cinema mi piace vedere gli attori mi metto qua di tanto genere e a proposito quindi c'è un'ora per ogni cosa assolutamente questo ci dite per i pesci probabilmente anche per uno dei miei maestri diceva fa la cosa giusta al momento giusto do the right things at the right time questo è certo dobbiamo fare le cose giuste c'è un momento per dormire per mangiare per studiare per fare altre cose professor Manfredini vengo a lei ma bisogna ma c'è un'ora che fa la domanda scusa non si sente la domanda purtroppo abbiamo ragazzi che faccio la voce la cosa ti ha frammatica si sente lo spostiamo e poi e poi lo lo professor Manfredini intanto o Stefano vi chiamo per nome il primo Manfredini vicino a me l'ultimo ha parlato Stefano e Roberto intanto mi è stata raccontata di questo spin off dell'università di Ferrara me lo racconta bene perché questo Ambrosialab proprio si occupa proprio dell'estudio e dello sviluppo si è un'azienda biotech esatto è un'azienda biotech noi ci occupiamo sia di nutrienti che di cosmetici ci occupiamo mi occupavo perché ormai lo spin off è stato fondato nel 2003 e quindi autonomo corre sulle sue gambe io e la collega Vertuani l'abbiamo fondato proprio mi spiace che non c'è più l'elettrice perché abbiamo questo amore verso il trasferimento tecnologico verso il rapporto università impresa anzi ringrazio Assio Biotech io sono che ha voluto la voce dell'Università di Ferrara nel campo cosmetico e nelle biotecnologie io sono membro dello steering committee di Assio Biotech Cosmesi che ha stilato le linee guida per i progetti di ricerca che sono stati mandati al ministero quindi approfitto l'occasione per ringraziare per cui questo spin off nasce proprio per sfruttare le nuove acquisizioni della biotecnologia e metterle al servizio della cosmesi e della nutrizione sostanzialmente con una serie di invenzioni diciamo abbastanza fortunate specie nel campo dell'acido ialuronico nel campo di alcune molecole sullo stress ossidativo io la mascherina me la vedo è così no perché conoscendo il professore esperto in tutti quelli che sono gli effetti dei nutrienti della nutrizione dei cosmetici forse ho usato quegli stagliati mi metto la mascherina no ma va bene tanto io sono un accanito un accanito fruitore della sua trasmissione perché spesso mi telefonano guardano guarda che sei su radio 24 ma è lui in realtà perché abbiamo la stessa cadenza per radio anche viene fuori proprio uguale ma va non lo sapevo mica sì sì è un bellissimo intervento grazie non mi giustifico neanche più adesso grazie grazie quindi Stefano stavamo dicendo che mi sono un po' perso ecco io sono un accanito fruitore della trasmissione una giornalista molto brava competente attenta può tenere anche sei mascherine perché tanto non conta perché la bellezza è altro non è sicuramente come appare e quindi dicevo ma non solo perché questi temi della crono chiamiamola crono cosmesi noi li trattiamo ormai da 12 anni e da 12 anni che ci interessiamo di questi aspetti e qui quello che manca fondamentalmente è la ricerca di base cioè la pelle ancora è stata vista per troppi anni come una barriera quindi barriera dall'idea di essere una tuta di gomma che ti metti ma la pelle è l'organo più esteso che abbiamo un organo fortemente metabolico e che quindi è fortemente soggetto ai ritmi circa di anni perché è soggetto alle stesse dinamiche che citava prima il collega Roberto ovvero quando adesso mi direte beh questa ha scoperto l'acqua calda lo sapeva anche mia nonna che ci sono le creme notte e le creme giorno no però dopo le creme notte e le creme giorno le abbiamo superate perché il concetto come ripeto siamo ancora all'anno zero perché nella dermocosmesi mancano ancora le informazioni della ricerca di base quindi si sa che questi meccanismi ci sono quello che non si sa come le pillole di ritardo che citava Roberto prima è quale strategia utilizzare per influenzare al meglio la salute della pelle utilizzando un approccio circadiano tento di spiegarmi perché non è facile sintetizzando noi abbiamo due modalità quali sono i principali meccanismi circadiani della cute c'è il meccanismo della riparazione e il meccanismo della protezione il meccanismo della riparazione lavora di notte c'è una bassa traspirazione e c'è bisogno di nutrienti per la diciamo riparazione il meccanismo attivo che è quello della protezione quindi principalmente i due campi studiati sono quelli lì la protezione negli ultradioletti è attivo specialmente è attivo durante la giornata cosa capita che adesso si è incasinato forse non potevo usarlo si è pasticciato tutto si è pasticciato tutto perché sono le cose che sono venute fuori più recentemente sulle blue light no? e anche qui devo fare un altro inciso che vedo il signore molto trendy mi garantisce che non ha sacrificato nessun dalmata sì nessun dalmata è morto bene è il trend più recente questo qui la cosmesi è soggetta ai trend quindi molto spesso appena esce una notizia il consumatore vorrebbe già il prodotto ma manca la ricerca di base da cui nasce la ricerca applicata che facciamo nella famosa spin off da cui nasce il prototipo che viene industrializzato faccio un esempio la blue light scombina il ciclo della pelle perché stando davanti a un monitor ed è determinabile anche con dei test oggettivi è possibile vedere una pelle più invecchiata questo è dovuto al fatto che non si attivano i meccanismi di riparazione che si attivano al buio quindi è legato ai cicli luce giorno e notte quindi la sfida qual è quella di inventare questa è un po' la ricerca di base ingredienti che possono svolgere un'azione protettiva anche durante le ore in cui non sono deputati a farla quindi mentre se nell'arco della giornata sono i classici filtri ultravioletti e gli agenti idratanti nel corso della notte sono i nutrienti adesso non per autocitarne però l'ultima scoperta che abbiamo fatto che abbiamo brevettato con l'università di Ferrara e che è stata acquistata da un'importante società dermocosmetica italiana è una nuova forma di alluronico crosslinkato che è in grado di formare questa pellicola quindi fornisce nutrimento durante la notte diciamo così e di giorno fa questa pellicola protettiva per proteggere dai danni diciamo così ma non la senti perché praticamente è come un velo che fornisce un effetto barriera ecco adesso mi è venuto il termine di giorno è l'effetto barriera quello che viene aggredito di notte è l'effetto ricostruzione della barriera quello che deve essere implementato c'è molto fake in circolazione perché ovviamente un claim come quello della cosmesi circadiana fa effetto no? poi all'interno ti trovi l'ingrediente che non c'entra un benemerito nullo la pianta X la pianta Y eccetera gli studi di correlazione il consumatore non è assolutamente in grado di leggere un inchi ci riescono i nostri farmacisti perché escono con due corsi uno insegno io e uno insegno al collega Virtuani sulla propria lettura dell'inci interpretazione eccetera il mio è dentro alle biotecnologie dove è la Monica? è dentro le biotecnologie il suo è dentro la farmacia ma possono essere scelti anche come corsi scelta libera perché la lettura dell'inci è come un brevetto cioè occorre proprio una è vero che facciamo fatica a leggere le etichette nei prodotti che compriamo al supermercato alimentari però insomma spesso comprare un cosmetico è un atto di fiducia nei confronti del farmacista oppure del negozio di profumeria perché si dice si legge crema da notte crema da giorno ma cosa faccio se si invertono le due creme c'è qualche eh sì c'è praticamente come vestirsi di leggero d'inverno e di pesante d'estate cioè proprio non ci azzeca niente le faccio un'ultima domanda ehm chirurgia estetica ehm ci sono tanti trattamenti anche a base di acido ialuronico ehm sempre più persone si affidano al ridocchino anche se la fiducia nel cosmetico rimane ma come per cercare una scorciatoia anche a livello di comunicazione non sarebbe utile spiegare che i prodotti cosmetici sono un nutrimento per la pelle e non sono solamente eh un prodotto eh offerto da aziende per no per fare guadagni premesso che non ho niente contro la chirurgia estetica la chirurgia estetica ha raggiunto dei livelli oggi come oggi veramente elevati è assolutamente vero il problema qual è? quando sei guidato nell'acquisto da un professionista puoi fare una scelta ragionata quando vai sull'auto acquisto mi riferisco alla rete internet o al supermercato sei guidato prima cosa dall'occhio secondo dal naso terzo dal tatto giusto? e quindi sei guidato dall'influenza di turno dalla comunicazione tutte queste cose qua e quindi è evidente che se parliamo trivialmente di crema da notte da autoacquisto di crema da notte suggerita sono due cose completamente diverse è assolutamente dimostrato che la pelle non è plastica la pelle assorbe assorbe in modo selettivo alcuni nutrienti tant'è che se parla di approccio nutricosmetico una vitamina E può essere può arrivare alla pelle sia attraverso la nutrizione che attraverso l'applicazione diretta sulla cute dove il danno è stato creato quindi non è assolutamente sbagliato parlare di nutri cosmetici è sbagliato parlare di perché sono quelli che funzionano dall'interno è sbagliato parlare di nutrizione della pelle nel termine con cui intendiamo l'alimentazione nutrizione significa fornire alla pelle quei fattori che attraversano la barriera cutanea e che vanno a nutrire il sottostrato cellulare e quindi tutti quei ceramidi insomma tutti quei principi attivi che vanno effettivamente a contribuire alla costruzione della barriera e alla nutrizione della pelle anche da fuori non solo da dentro perché da dentro passa il fegato c'è la metabolizzazione invece direttamente per l'applicazione cutanea e da qui tutte le device come la nostra invenzione che consentono attraverso l'applicazione una facilitazione dell'attraversamento e quindi una facilitazione dell'arrivo di queste sostanze fisiologiche non farmacologiche che vanno a svolgere un'azione fisiologica sulla cute e il substrato cutaneo ma che professori meravigliosi avete ma io sono no volevo proporti quando farai l'intervista a Stefano tu lasciati sono professora ma fai di Ferrara basta così così l'accento così abbiamo il dubbio cioè prendiamo il dubbio di applausi con la metà di sforzo no va bene capito va bene così uno specifico è Roberto Stefano ma quante cose dottor Trevisan passo alle ho dimenticato di dire che all'uscita per le signore è previsto una confezione gigante di prodotti special che ha portato ma me lo dovevi dire prima me lo dovevi dire basta dare raccogliere c'è un bene container perché deve venire sempre sempre con delle belle borsate si sbaglia mai dottoressa io ho una domanda il professor Alberto Lucci abbiamo sentito tante cose questa mattina interessanti abbiamo capito quanto può incidere la luce gli orari su tutto il sistema anche degli animali non ho sentito l'incidenza e se c'è e quale tipo di relazione dei suoni e mi spiego meglio suoni traduco in musica perché ormai da anni negli Stati Uniti ma non solo ma anche vorrei dire in tutto il mondo c'è sempre più l'applicazione e parlo di allevamenti da terra quindi non parlo ovviamente di 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 cultura sempre più leggo con attenzione che dell'alimentazione animale correlata e coordinata anche con dell'emissione di musiche per facilitare l'alimentazione sembra dico dico io avrà letto anche lei sicuramente che c'è anche un aumento del peso parlo di vitelli da carne eccetera è tutto vero c'è del vero è una mia curiosità perché la leggo un po' con quello che stiamo ascoltando questa mattina volevo capirne un po' di più l'ho letto anch'io e me ne sono interessato tra virgolette dal punto di vista didattico anni fa perché insegnavo in un corso di etologia applicata dove si parla di benessere animale perché gran parte di tutti questi lavori che svolgiamo hanno una ricaduta molto forte sul welfare perché si mangia bene nel momento giusto e quindi l'animale sta meglio in salute perché alla base di tutti i progetti europei dobbiamo sempre tenere contro del welfare animale e mi ricordo dei lavori credo in Germania o negli Stati Uniti ma credo in Germania dove avevano messo delle pale eoliche per alimentare questi grandi hangar di allevamenti bovini e queste pale facevano continuamente questo rumore e scoprirono che questo rumore era un fastidio per gli animali e c'era una riduzione nella produzione del latte perché aumentava lo stress degli animali che sentivano continuamente questi rumori poi ho letto anch'io negli Stati Uniti di questi allevamenti dove abbinano determinate musiche se poi i dati che ci sono sono dati di riduzione di stress poi dopo quale sia il meccanismo di diciamo di azione però queste cose le ho lette anch'io e alcune persone ci credono e perché no insomma che male c'è un bel Schopenhauer Wagner mentre mentre io mi ricordo di avere intervistato un produttore di vino che aveva il tema la musica nelle vittime sì ne ho sentito parlare anch'io direi non mi pronuncio ecco su questo tema perché personalmente sono abbastanza scettico ecco perché è chiaro che l'acqua i liquidi le soluzioni acquose zuccherine non hanno poi memoria non ci risulta che abbiano memoria di quello che hanno ascoltato precedentemente e gli influssi che sono esterni sui vegetali in genere sono o la temperatura o la luce dentro abbiamo patrimonio genetico e gli ormoni e noi non andiamo più là volevo entrare su questo argomento un attimo della musica una volta sono andato a casa del predecessore dell'ottor Govoni Carlo Alberto Roncarati che era presidente della Camera di Commercio un agricoltore e su questi ciliesi che aveva davanti a casa torneggiavano degli altoparlanti che a altissimo volume trasmettevano una cantata di Pavarotti allora sono andato e gli ho chiesto ma come mai i merli quindi un utilizzo diverso cercava di far scappare i merli perché gli mangiavano le cilieze una battuta abbia pazienza una battuta no per quanto riguarda diciamo il fotoperiodo associato a volte ai ritmi circadiani ecco nelle piante il discorso è un po' diverso però è molto affascinante abbiamo in agricoltura di pieno campo molte coltivazioni che hanno per esempio sono dipendenti dal periodo e sono magari brevi diurne come la soia per esempio che va a fiorire quando le giornate si accorciano adesso beneficeremo dei crisantemi perché vanno a fiore perché sono delle piante brevi diurne o longi notturne cioè allora vengo al tema del rapporto dell'induzione a fiore ma anche ad altri step fisiologici delle piante in dipendenza dal rapporto luce e notte nelle 24 ore nella soia nella petunia nel citato crisantemo il giorno corto o meglio ancora la notte lunga presiede alla formazione del fiore e naturalmente per altre piante simili coltivate in serra quindi si può interrompere la lunga notte con dei flash per esempio di luce opportuna per giocare per vedere di scegliere esattamente quando portare a fiore le piante quindi dal punto di vista commerciale questo naturalmente è importantissimo ecco e qui si apre un mondo di osservazioni molto affascinanti sulla biochimica perché il fitocromo che è una specie di clorofilla comunque è un fotorecettore che può essere anche fotodegradabile a seconda del tipo di luce che riceve è una molecola della quale vorrei parlarvi brevemente perché è una cosa meravigliosa che sta nel citoplasma della cellula vegetale ed è sensibile questo fitocromo a due tipi di luce una luce rossa 650 670 nanometri di lunghezza d'onda oppure non è sensibile anzi retrograda quando prevale la luce rossa lontana una lunghezza d'onda di circa 730 nanometri allora in questa alternanza in cui questa molecola il fitocromo tende a trasformarsi e retrogradare c'è un avanzamento che appunto dura dei giorni finché la struttura di questa proteina perché di questo parliamo di cose fisiche anche se sembrano molto molto fini finché la struttura arriva a un certo punto di non ritorno per cui questa molecola dal citoplasma finalmente entra nel nucleo nella stanza dei bottoni e lì in questo caso parliamo in relazione al brevi diurno piuttosto che l'ongi notturno o viceversa prende mano alla situazione e induce la pianta a fiorire per esempio ecco questo è una cosa che l'evoluzione ci ha dato ci ha donato ed è alla base della maggioranza dei meccanismi che nelle piante sono appunto regolati dall'alternanza luce e buio una domanda provocatoria ma non so se mi sentite fatta all'esperto e si legge sulla stampa che chi coltiva canapa nel racconto cosa si letto l'ho letto io almeno lo fa in delle specie di armadioni foderati di alluminio con la luce 24 ore su 24 sì allora dunque quelli che di noi magari hanno avuto degli studenti come affittuari in case perché qui e hanno poi aprendo gli armadi hanno trovato queste cose strane hanno studiato il sistema bene e quindi l'alluminio è per magnificare la luce naturalmente che viene utilizzata a modi serra all'interno di questi loculi di questi armadi e in realtà devo dire che il massimo della produzione di fiori femminili che sono quelli che hanno le vescicole con il contenuto dal punto di vista farmacologico più interessante appunto le piante femminili producono la maggioranza di fiori quando in realtà ci sono 12 ore di luce e 12 di buio forse quegli studenti che operano devono informarsi meglio ma possiamo fare delle consulenze in tal caso non studiano da voi non studiano da voi posso dire quindi che anche questa produzione più o meno abbondante di questo prodotto che è appunto il tetraido cannabinolo tanto prezioso è molto influenzata dal ritmo luce buio quando ormai molti anni fa studiavo a Pisa e con la facoltà di Reria di Pisa avevamo messo in piedi un campo sperimentale di canapa canapa normalissima vicino a Camp Derby il campo americano dei soldati americani noi forse eravamo indietro loro non conoscevano la canapa da fibra ma conoscevano quell'altra e di notte era pieno così di questi soldati con la pila che andavano a prendere le infiorescenze perché in condizioni di stress idrico particolare qualche cosina mi si dice nelle infiorescenze femminili si può raccattare anche dalla canapa da fibra poi torno al dottor Bolognese come scrittore io vorrei chiedere al dottor Trevisan abbiamo parlato di tutto del mondo che ci sta dietro della ricerca della cronobiologia delle biotecnologie che valetto ho ragazze eh mi da anche un po' i colpetti però qua sull'anno dai no vorrei chiedere a lei dal suo punto di vista e soprattutto dal suo osservatorio privilegiato tutto questo di cui abbiamo parlato concretamente poi alla fine al consumatore finale che cosa arriva aspetta Sergio grazie personalmente credo che al consumatore finale arrivi poco ormai ci sono studi lo sapete tutti lo sappiamo tutti che il consumatore eh adesso parliamo del consumatore di cibo non voglio entrare in altri argomenti di carattere farmaceutico ma io parlo del consumatore tipo di cibo osservatorio cibo generale in generale totale credo che noi tutti i consumatori sappiamo poco se parliamo specificatamente di ortofrutto ma parliamo anche di carne parliamo anche di pesce ci sono interviste effettuate negli ultimi dieci anni da enti mondiali europei nazionali di tutto rispetto dove il 93 94 95 98 per cento della popolazione non è a conoscenza o è a conoscenza di nulla ormai se parliamo di ortofrutta biologica e questo è un dato che riporto è un dato di due anni fa ma il 92 93 per cento della popolazione non sa distinguere l'ortofrutta biologica o la differenza di carne biologica da carni convenzionali e un po' è normale un po' ci sta perché siamo tutti consumatori io sono incompetente il 100 per cento in materia di pesce non me ne intendo non lo conosco quindi non mi stupisco se una donna o un uomo o un ragazzo o una ragazza di Milano anziché di Londra di Palermo anziché di Ferrara non sa nulla di ortofrutta le origini non sa la stagionalità non è a conoscenza delle differenze tra produzioni integrate biologiche e convenzionali perché come io sono incompetenti in materia di caratteristiche di tutto il mondo che circonda il pesce o la carne eppure comprendo anche che la popolazione alla popolazione di quello che ci stiamo dicendo arriva nulla arriva poco arriva troppo poco e qui credo che bisognerà fare sicuramente più informazione e la domanda è chi fa l'informazione chi sostiene i costi per l'informazione perché poi dopo tutto si traduce in costi è vero è vero ma secondo lei il consumatore almeno la sensazione la percezione di poter scegliere dei prodotti di qualità oppure non ha le informazioni sufficienti per apprezzare anche tutti gli sforzi che le aziende ci mettono per dare dei prodotti famosamente in Italy ma non solo questa è una domanda molto complessa e non è facile rispondere perché comunque le potrei anche rispondere con un'altra domanda è scontato comunque che c'è pesa su questa risposta quello che può essere l'incidenza del potere di acquisto di un consumatore è normalissimo quindi noi lo vediamo nel settore alimentare lo vediamo nel settore dell'abbigliamento lo vediamo in qualsiasi tipo di settore dopo devo riprendere anche un altro argomento del Cavalier Bruni è scontato che incide molto quello che ho appena detto perché insomma a tutti piacerebbe cibarsi biologico con le migliori caratteristiche anche dal punto di vista della salubrità ma non tutti se lo possono permettere perché sappiamo che il pianeta biologico in maniera trasversale può incidere con un aggravio di costi dal 20 al 50% parlo solo di alimentare non vado su tessuti o su altri argomenti di questo argomento quindi sicuramente ha un'incidenza particolare ma nel mio video nella trasmissione della domenica e poi passo al mancato pronipotismo e chirico perché arriviamo anche lì per chiudere prima di lasciare la parola al professor Manfredini l'altro diciamo chiamiamolo così l'altro ecco c'è un po' ancora la tendenza di dire ah non si mangia non ci sono più le pere di una volta il vino del contadino l'uovo della gallina c'è c'è molta un approccio di questo tipo come se tutto il resto ecco o mangiamo molto bene è un prodotto di altissima qualità ma sono un po' come le creme quelle che oppure mangiamo delle cose che non ci fanno bene perché non sono più quelle di una volta non hanno più gusto non hanno più sapore non hanno più le vitamine sono conservate ecco io colgo questa doppia lei dottoressa ha colto bene però l'industria mondiale e l'agricoltura mondiale produce quello che chiedono i milioni o miliardi di consumatori e le faccio un esempio noi tutti siamo abituati ci siamo abituati a mangiare della carne magra quindi tenera quindi rossa non guai vedere del grasso adesso ovviamente io sono uno di questi magari all'interno di questa sala ci sono alcuni che prediligono una carne grassa eccetera 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 però la popolazione chiede una bistecca magra rossa tenera e quindi che cosa hanno fatto gli allevatori negli ultimi 20-30 anni hanno messo a punto un sistema di allevamenti e ovviamente di alimentazione prima Cavaliere Buroni parlava con la riduzione o l'azzeramento anche degli antibiotici nei mangimi eccetera eccetera in modo tale che quando si va in un supermercato si comprano delle bistecche non è importanza se una bistecca lunga 30 cm sulla piastra si riduce a 10 perché questo dopo succede questo lo vediamo anche noi quello che succede nei fornelli in cucina però il consumatore vuole questo 10-15 anni fa già nel 2000 il consumatore mondiale europeo italiana chiedeva un pomodoro rotondo rosso e che potesse avere una set-fry per lo meno di 8-10 giorni quindi è così il pomodoro deve essere rosso rotondo duro non che sbrodoli e che avesse una durata nei nostri frigoriferi per lo meno di 8-10 giorni per evitare che dopo 2-3 giorni si buttasse via e qui c'è tutta una tecnologia messo a punto il dottor Bolognesi lo sa prima negli Stati Uniti poi in Olanda e poi arrivato in tutta Europa in Italia e non so se voi lo sapete ma sicuramente quando transitate in autostrada in sovrastrada in direzione mare ha ostellato sulla destra se lo passate anche di sera vedete 10 ettari e adesso stanno diventando 20 ettari che di sera sono tutti illuminati di arancione perché si producono i pomodori 12 mesi l'anno esattamente come gli olandesi ovviamente con queste caratteristiche ma perché? ma perché l'industria dell'agricoltura come ho detto due minuti fa deve produrre quello che chiede il consumatore e il consumatore viene influenzato sicuramente da quello che vede nelle televisioni nelle radio quello che legge nei giornali e anche sicuramente da quello che trasmette la distribuzione organizzata perché in tutto ciò ha avuto un ruolo determinante a livello mondiale la distribuzione organizzata con milioni o miliardi di consumatori fidelizzati oggi che sia Selung anzi Coop che sia Elek in Zalmania anzi che Tesco in Inghilterra raggiungono milioni di consumatori o online o qui social o con i giornalini dei consumatori che sono fidelizzati quindi questo bombardamento di comunicazione ha orientato negli ultimi vent'anni quelli che possono essere usi e consumi di tutto quello che facciamo quotidianamente Volevo dire e prendere spunto da quello che diceva il dottor trevisano è questo l'ente olandese che distribuisce fondi di ricerca che non ne parliamo neanche noi lo sappiamo in proporzione a quanto è piccola l'Olanda il PIL dell'Olanda investono molto di più tutti gli anni o periodicamente lancia dei sondaggi tra gli olandesi e dice qual è l'argomento che voi vorreste che noi studiassimo cioè proprio un sondaggio l'altro anno uno dei principali punti per cui l'olandese medio interessato allo sviluppo di attività di ricerca ha presentato è il problema dell'inquinamento luminoso perché l'Olanda in Europa e nel mondo è uno dei paesi che ha il maggiore inquinamento luminoso prima Roberto ha lanciato una sigla che è l'Anna ora uno dei grossi problemi è l'artificial light at night perché noi se noi passiamo con gli aereo vediamo ricordo tanti anni fa un viaggio con mia moglie verso l'Africa vogliamo usciamo dall'Europa arrivi sul deserto del Sahara nero completamente non vedi niente sotto per trovare le prime luci di arrivare in Sud Africa e l'Olanda ora sta investendo molti soldi perché allevamenti agricoli allevamenti bovini acquacultura moltissima luce di notte e altera completamente gli orologi biologici qualche anno fa abbiamo fatto un viaggio in Olanda e un po' di passione sportiva lo ha ancora andiamo a visitare lo stadio dell'Ajax vado dentro questo stadio bellissimo tu ti puoi stessi vedere entro dentro e la sera trovo dei ventilatori enormi e delle luci che illuminavano il campo avanti e indietro chiedo diciamo lo speaker che era qua e no qui non siamo in Italia non c'è abbastanza luce poi questo è uno stadio completamente coperto quando fa freddo piove noi chiudiamo completamente diventano un palazzetto da 40.000 posti ma l'erba deve crescere e quindi avanti e indietro con questi illuminatori artificiali su trattori per illuminare questo è un problema guarda che alla lunga sarà un grande problema l'inquinamento artificiale a parte i problemi ormai che sappiamo per la migrazione degli uccelli che alterano le migrazioni degli uccelli ma in generale questo alla lunga diventerà un problema perché tutti gli animali che vivono in questa zona sono sicuramente disturbati da questo fatto quindi dovremmo ragionare anche di questo inquinamento artificiale e poi c'è quella famosa immagine che ha ormai qualche anno della Samantha Cristoforetti con Milano che Milano è la città più illuminata era due o tre anni fa non so se è stata battuta la più illuminata d'Europa perché ha cambiato tutto in led ma te ne dico un'altra e poi magari per esempio sappiamo ormai che le illuminazioni sulla costa che sappiamo camminiamo in Italia io vengo da Via Reggio quindi abbiamo questi lungomari completamente illuminati creano una grossa luce artificiale sulla costa molti specie di pesce al momento della riproduzione si spostano verso la costa per deporre le uova e ora questo non lo fanno più perché non c'è una condizione di buio come si attenderebbero se depongono le uova la notte ma stanno più lontani questi sono altri problemi che noi le tartarughine in Florida girano le spalle al mare perché la luna illumina poco e vanno verso i supermercati delle highway e invece di andare al mare vanno verso i supermercati e ci vanno i volontari a spostarle per farle andare in mare quindi si potrebbe parlare ma qui abbiamo era luce perché ci sarà presto un convegno di era su questo argomento quindi orientamenti però in Olanda sono anche un po' farisei perché hanno fatto per primi quel villaggio costruito in cui le luci si accendono solo quando passa i led quelli a colore caldo costano di più ma danno meno impatto però si accendono solo quando passa il ciclista o quando passa il pedone hanno un villaggio artificiale che risparmia luce però lo fanno per l'uomo provano però è spettacolare perché se tu vai in Olanda io vado in Olanda in macchina con mia moglie andiamo in macchina e trovo tutti i semafori verdi sono fortunato poi scopro che sono semafori intelligenti che vedono quando non c'è traffico è inutile che tu stai fermo consumi CO2 non spengi l'automobile insomma questa cosa quindi se sei sole tu arrivi loro lo sanno con le fotocellule perché Trevisani mi ha dato un assist importante per affrontare quello che è il mio cavallo di battaglia con i miei studenti di biotecnologia cioè il futuro è biotecnologico non abbiamo alternative per che motivo prendiamo un campo effimero come quello cosmetico dove ovviamente le sensibilità nei confronti dell'ambiente sono più forti perché non posso sacrificare l'ambiente per inserire un ingrediente in un cosmetico cosa serve poi un cosmetico no? quando ti sei lavato hai già fatto tutto però insomma ci dimentichiamo che la spagnola la sconfitta il sapone non è che la sconfitta i vaccini quindi il futuro è nelle biotecnologie industriali perché perché ad esempio sui cosmetici si comincia già a vedere perché come dicevo prima seguono molto le mode no land use cosa vuol dire no land use se io utilizzo terreno coltivabile per produrre un ingrediente cosmetico tutto adesso sta shiftando verso il cosmetico naturale e questo vale anche per l'integrazione alimentare quindi le singole molecole i singoli ingredienti se io utilizzo il terreno che deve essere invece lasciato a disposizione di una popolazione mondiale in crescita ma faccio un altro esempio ancora più banale non pianto grano in Bulgaria per piantare delle rose e fare dell'olio essenziale di rose è sostenibile? assolutamente no è molto più sostenibile come è stato fatto produrre olio essenziale di rose da colture di lieviti geneticamente modificate è molto più la vanillina cioè se noi pensiamo che la vanillina che usiamo viene tutta dall'utilizzazione dei baccelli siamo fuori come dei meloni perché in realtà dovremmo deforestare mezza mastogna per piantare solo delle piante di vanillina quindi questo discorso che adesso ha cominciato ad affrontare il settore della cosmesi perché è sempre molto attento ai trend che è già arrivato al settore anche dei tessuti della moda arriverà anche all'alimentazione perché io non posso permettermi di investire terreno acqua e quello che serve per allevare una mucca per poi mangiarla faccio una bella coltura cellulare di proteine di mucca e mi mangio le mucche invece di mangiare le mucche e poi qui chiudo il gancio me l'ha dato per perché se io faccio l'interroga adesso cioè il collega Pinotti che cosa mangi della carne mangi la carne tu? io no non tanto ma poca quando mangi la carne che cosa mangi? in petto lei cosa mangia della carne? coca mi dispiace io mangio anche la coce bene però preferisco il pesce e del pesce cosa mangia? il pesce mangio le acciughe si mangio delle acciughe si molto buone e anche le sardia del cafico perfetto per la mia metà siciliana poi guardo un pochino l'offerta ho un pesce che io quando io dico prendo questo no mi sa che ti piacerà quest'altro per cui mangio quello che mi piace poi gliela prepara gliela sfila gliela quindi tutti e due avete citato parte nobile muscolo non sarà che perché non mangiamo più il brodetto non sarà perché non facciamo più il brodo con i cascami con le fibre che siamo tutti carenti di collagene non sarà questo il motivo per cui noi ce lo dicono io ve lo dico abbiamo uno studio su 652 studenti dell'Università di Ferrara proprio per determinare la densità del collagene già finito in collaborazione con il mitico professor Conconi col gruppo di cammina con me e tutto il resto quindi lo dico e lo affermo cioè l'alimentazione è la chiave di tutto anche della prevenzione e soprattutto del mantenimento che vale per tutti gli aspetti ma credo che dobbiamo guardare con fiducia alle biotecnologie senza tante riserve particolari perché ci sono biotecnologie green safe sicure contenute che non si spargono perché siamo rimasti tutti colpiti dalla storia della Monsanto ma non c'è solo Monsanto c'è biotecnologia buona come quello che sto dicendo alghe che possono essere coltivate e forniscono non so se la dico come fanno il salame sapete come si fa il salame? non so se vogliamo saperlo ma sì dai si compra sempre da questi benedetti olandesi che non è che sono i più amati d'Europa si compra sempre da questi benedetti olandesi la massa grassa e la massa magra e poi si combina per fare il salame grasso magro come vuoi tu sono anche noi ma assolutamente sì potrei fare i nomi anche dei non lo faccio perché se no sono rovinato potrei fare i nomi di come si quindi quella massa grassa lì io oggi come oggi la posso fare con una micro alga che produce il 77% in peso di grassi identici ai grassi animali spontanea naturale e non genitamente modificata poveri olandesi no non siamo tanto non siamo molto preoccupati per gli olandesi se la cavano sempre gli olandesi sono buoni commercianti e poi non ci volevano dare i soldi erano quelli che non ci volevano dare la lira non so perché non so perché non è tua io vorrei lasciarti il piacere di chiudere con il bolognese scrittore con una storia d'amore ferrarese no ma raccontate è vostra vengo io da Milano a raccontare la storia no no vabbè racconterà lui stesso io per scherzo nella scalettina che ho mandato a Nicoletta ho scritto il mancato pronipote di De Chirico come una battuta dovevi dirvelo l'avrei portato qualche libro che le farò vedere perché in italiano e in inglese usciamo dalle biotech ma fino a un certo punto perché adesso ci racconta un attimo Eugenio cosa sta perché il mancato pronipote di De Chirico come battuta in realtà è semplicemente il pronipote della musa di De Chirico perché in un saggio firmato dal direttore responsabile della collezione De Chirico c'è un saggio anche molto colto c'è un avvicinamento un'analogia fra alcuni per esempio i futuristi e in particolare poi anche De Chirico su cui tutti questi corpi scomposti queste rappresentazioni che abbiamo ben presente di De Chirico rappresentino un'ancestrale o diciamo un'immagine propedeutica a quello che possono essere le biotech ma questo era una scusa per introdurre il dottor Bolognesi scrittore e non il dottor Bolognesi agronomo e con tutto quello che abbiamo detto prima ci racconti perché la tua bisnonna trisnonna un minuto purtroppo però gli italiani gli dai mano il microfono e poi se lo tengono allora devo fare un passo indietro difendo l'agricoltura ferrarese dal consumo di acqua dalla quale diciamo si deve difendere un po' tutta l'agricoltura ma quella ferrarese in particolare l'agricoltura consuma acqua sì Ferrara con sua provincia di 240.000 ettari è esentata da questa problematica perché è in fondo al Po quindi l'acqua che arriva dal Po qui dopo non la vuole più nessuno perché va in mare quindi noi abbiamo avuto anche 10.000 ettari di risaia abbiamo avuto 60.000 ettari di grano e così via insomma ma nessuno ci può dire che sprechiamo l'acqua perché l'acqua che passa di qui dopo va nel mare e questo mi rende felice di partecipare alla vita di questo territorio per quanto riguarda De Chirico ma no non voglio annoiare la gente non è venuta per questo però questa mia prozia sorella di mio nonno che io prozia che ho conosciuto molto bene perché è morta alla fine degli anni 70 è stata quando De Chirico è venuto durante la prima guerra mondiale da chiamiamolo imboscato a fare il militare qui a Ferrara è stata fidanzata con lui sono stati insieme questi due anni e mezzo diciamo fino alla fine del 18 e poi alla fine della guerra come si sa i soldati non vengono subito mandati a casa e quindi De Chirico ha continuato a fare il militare ma a Roma è stato a Roma un anno e proprio da Roma ha mandato questa mia zia c'era in ballo una reciproca promessa matrimoniale che poi dopo è andata a carta il 48 comunque lui nel 19 ha scritto queste 105 lettere d'amore a questa mia zia che lei ha conservato e la cosa più bella è che lei nei momenti più difficili del rapporto perché tutti i rapporti amorosi hanno i loro bravi alti e bassi ha tenuto e quindi le ho avute le brutte copie delle lettere che lei ha spedito lui ecco questo è un po' il tema assieme a mia moglie ci siamo divertiti molto a mettere giù questo libro che poi si è meritato una menzione d'onore al premio estense di qualche anno fa premio letterario estense di qualche anno fa e grazie a questo libro grazie alle lettere abbiamo anche definito che per esempio un quadro di De Chirico che si diceva fosse ritraesse una tal figura in realtà era il retratto di mia prozia appunto e quindi abbiamo dato al mondo dell'arte questa chicca ecco tutto quindi era la musa inquietante la musa inquietante no 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 era il ritratto che no ma era la musa inquietante così dello spirito io siccome questa mia zia ha lavorato al castello di Ferrara tutta la vita e le musa inquietanti è stato dipinto nel 17 quando i due erano fidanzati da poco e ho ipotizzato e i critici quelli veri hanno detto che è molto plausibile che lui avesse dipinto questo quadro proprio in funzione del fatto che finalmente si era fidanzato con Antonia e la faccio breve e finisco sono uscite recentemente due libri ancora sulla base del mio uno scritto da uno psichiatra che appunto analizza le musa inquietanti in maniera in lungo e in largo e trae le stesse conclusioni e un altro di un ingegnere pisano che immagina dei dialoghi tra i due innamorati insomma comunque c'è stato un seguito e adesso si sta spingendo con l'assessore alla cultura di Ferrara e presso il regista Pupiavati per farne un film come spunto lo spunto c'è magari è così insomma questa avventura costituisce un divertimento infinito tuttora per me e me lo tengo stretto grazie per averla condiviso con noi io vorrei Monica e Veronica sul tavolo ringrazio tutti tutti i nostri ospiti che hanno reso secondo me molto interessante questa mattinata allora direi che abbiamo concluso in bellezza questa biotech week vorrei ringraziare Roberto e tutte le persone che sono intervenute oggi stavo infatti riflettendo sul fatto che il tuo intervento aveva un punto di domanda cronobiologia le biotecnologie un nuovo mondo direi che invece è una realtà e l'hai mostrato benissimo tu in tutte le diverse applicazioni e questo mi offre appunto lo spunto l'abbiamo visto dopo in questi cinque giorni come le biotecnologie abbiano tantissimi ambiti applicativi da l'ambiente la salute l'ambito alimentare agricolo zootecnico e ritorno appunto ricordando che l'università di Ferrara offre con la sua offerta formativa diversi corsi di biotecnologie in tutti questi diversi ambiti vorrei infatti citare che oltre alla laurea triennale in biotecnologie alla laurea magistrale in biotecnologie per l'ambiente e la salute alla laurea magistrale in biotecnologie per la medicina transazionale abbiamo anche la laurea triennale in biotecnologie mediche dove qui abbiamo il suo coordinatore il professor Trapella e la nuova laurea magistrale in biotecnologie agrarie per la feriera agroalimentare lo sono ricordata perché tra l'altro è un corso nuovo quindi l'ho imparato bene infine lasciatemi ringraziare i due dipartimenti che sono stati coinvolti nell'organizzazione di questo evento il dipartimento di scienze della vita e biotecnologie dove abbiamo il direttore il professor Pinotti anche lui nel pubblico oggi e il dipartimento di medicina transazionale per la Romagna giusto ho detto bene il cui direttore è la professoressa Secchiero che è collegata che è collegata quindi la salutiamo benissimo benissimo e niente vorrei proprio ringraziare tutti perché è stata una settimana intensa ma veramente penso di grande scambio e di grandi spunti e spero sia proprio utile poi anche soprattutto per i nostri studenti abbiamo anche i nostri rappresentanti studenti perché poi l'obiettivo insomma tutto questo è soprattutto per loro grazie a tutti ringrazio Roberto io ci ho sentito tante volte ma ogni volta è come veramente una fonte di ispirazione insomma di interesse volevo solo riportare un dato in più in questi giorni personalmente ho ricevuto diverse mail di insegnanti di scienze di biologia che chiedevano informazioni sulla possibilità di fruire dei video per le loro lezioni quindi lo dico proprio a dimostrazione dell'interesse che questo mondo della scienza delle biotecnologie insomma ha nei confronti anche della formazione di secondo livello insomma dei ragazzi più giovani ringrazio i nostri colleghi docenti che hanno parlato nei giorni scorsi che hanno fatto i seminari online che sono stati molto seguiti e vi ringrazio insomma della partecipazione ringrazio Monica e di nuovo Roberto grazie per questa bellissima giornata l'ultimo ringrazio che l'ho fatto ad Alessandro Ippoliti che è il direttore del dipartimento di architettura che ci ha grazie alla professoressa Secchiero ci ha dato questo ambiente bellissimo e il professor Ippoliti è a Roma e chiaramente tutt'altro lui è un esperto di restauro non ha niente a che vedere però ci mandava a salutare tutti e ha detto sono molto contento che casa mia diventi casa vostra sabato e mi fa piacere se lo dice tutti i colleghi perché è veramente una bella realtà grazie fine grazie a tutti grazie a tutti